Buon pomeriggio, benvenuti, stiamo aspettando che le persone si si colleghino, si colleghino. Si stanno collegando velocemente, vedo un minuto e iniziamo senza altro. Grazie. Allora, siamo a 90 partecipanti, saliremo senz'altro perché gli iscritti sono molto di più, anche se è il 3 luglio, periodo per me forse, ma comunque anche oggi, l'intervento di oggi del dottor Del Nevo è registrato, sarà registrato. Mi scuso perché non abbiamo ancora inviato quello dell'altra volta della settimana scorsa, a questo punto manderemo insieme i due interventi, anche perché sono collegati. Come sapete abbiamo scelto degli argomenti strettamente uniti l'uno all'altro, in modo da fornire la maggior completezza possibile. Oggi parleremo di un argomento che è senz'altro interessante come tutti gli altri, e cioè la bolletta doganale. Il titolo è forse didattico, come leggere la bolletta doganale, ma visto che la bolletta doganale non è un documento così semplice, mentre invece di fondamentale importanza il titolo è senz'altro azzeccato. Lascio la parola allora al dottor Del Nevo, che ringrazio anche per la collaborazione che ci ha dato. Grazie, buon poveriggio a tutti anche da parte mia. Segnalo solo che in chat una signora scrive che non ha ricevuto neanche la prima registrazione, poi queste sono questioni vostre della Camera che gestirete. Senz'altro. Ok, va bene. Prendo il nome, prendo il nome. Per il resto invece diciamo che, non so se le persone che sono presenti qua oggi, sono le predesime che hanno partecipato ai due precedenti incontri, per chi vi fosse al primo giro in questo ciclo di seminari, ricordo semplicemente che ovviamente la nostra impostazione del webinar sarà che parlo prevalentemente io, ma voi potrete interagire soprattutto proprio con questa sezione delle domande e delle risposte, per cui qualunque dubbio vi venga in mente mentre ci sarà la trattazione, potete fare quesiti, io nel limite del possibile cercherò di monitorare la sezione delle domande e risposte, per chi riuscirà a avere il tempismo di fare la domanda sull'argomento che stiamo trattando in quel momento, cercherò di dare immediata soddisfazione rispondendo in tempo reale. Non so se riusciremo con tutti, perché a volte il ritmo delle domande è particolarmente elevato, se non riusciremo nell'immediatezza, poi in corso del pomeriggio cercheremo comunque di dare soddisfazione un po' a tutti, anche perché credo che voi in questi webinar cerchiate risposte ai vostri dubbi, le vostre domande, quindi credo che sia giusto che usciate con qualche idea in più e non con qualche dubbio in più. Ora, adesso sono tutte le domande che sono domande e risposte riguardo alle registrazioni, per cui queste non sono domande a cui darò risposta personalmente, perché poi sarà la Camera a gestire le registrazioni. Di fatto, diciamo questo, oggi concludiamo un po' quel percorso che si era iniziato con l'origine delle merci, era proseguito con l'individuazione delle voci organali, l'importanza di classificare da un punto di vista doganale il prodotto, e oggi ci addentriamo a un tema sempre più strettamente doganale, squisitamente doganale, un tema che riguarda effettivamente la bolla doganale. Oggi abbiamo un'ambizione che, insomma, diciamo che sarà difficile da riuscire a portare a termine, nel senso, cerchiamo di parlare delle bolle doganali in senso ampio, CSD export, CSD import. In realtà, il momento storico ci porta anche a fare delle considerazioni, siamo di fronte, non a un cambiamento, a quella che io definirei invece piuttosto una rivoluzione doganale. Il codice doganale dell'Unione Europea, fin dal preistorico 2013, aveva previsto una rivoluzione nei rapporti con l'agenzia dogane, una rivoluzione che doveva portare alla smaterializzazione totale di tutti i documenti doganali. In primi, se la dichiarazione doganale è intesa proprio come bolletta doganale, e poi anche tutti quei documenti che vanno a costituire il cosiddetto fascicolo elettronico, abbinato ad ogni bolla doganale, ci sono tutta una serie di documenti che vanno dalla fattura al mandato allo spedizioniere, alla dichiarazione di vera esportazione, al packing list, certificati di origine a camera di commercio, agli auruno. È chiaro che il fiume di documenti che si allegano a spedizione è sicuramente importante, sia essa di export, sia essa di import. Ovviamente, ho detto, l'ambizione è altissima, abbiamo poco tempo a disposizione, inevitabilmente non riusciremo a trattare tutti gli argomenti col livello di approfondimento che meriterebbero. L'idea di oggi è ovviamente quella di darvi un'idea, di darvi una carrellata, anche perché per trattare tutti gli argomenti con questo livello di dettaglio, con dettaglio maggiore, servirebbero non meno di otto ore sicuramente. Ora, di fatto, partirei prima dal mondo dell'export, per arrivare poi al mondo dell'import, abbiamo quindi due momenti doganali che a noi interessano molto, l'essere esportatori, eventualmente essere importatori. Ora, l'esportazione ancora avviene con canali un po' più tradizionali dal punto di vista della bolla doganale, canali che verranno rivoluzionati, verosimilmente, a settembre o giù di lì, perché in realtà, di fatto, noi abbiamo un'attesa per il 7 settembre, che poi vedremo se verrà confermata l'agenzia del dogane, di smaterializzazione anche delle bolle dogane di export, cosa che in import è già avvenuta, abbiamo già fatto un incontro qualche mese fa, siamo al dottor Condina, l'ex direttore della dogane di Parma, per quello che riguardava la smaterializzazione delle bolle dogane di import. Oggi ripeteremo qualche concetto, perché in import la smaterializzazione è già avvenuta, è già in realtà, in export lo sarà breve, quindi faremo considerazioni da entrambi i lati. Di fatto, noi dovremmo arrivare a ricevere documenti, a controllare documenti, a verificarne l'autenticità e dovremo capire se rileveremo dei problemi, come intervenire, se intervenire. Di fatto, dovremmo andare a fare tutta una serie di accorgimenti aziendalmente parlando. Allora, se parliamo del mondo dell'export, che cosa vuol dire innanzitutto esportare? Dal mio punto di vista, esportare vuol dire far uscire le merci dal territorio dell'Unione Europea, indipendentemente dal soggetto nei confronti del quale mettiamo la fattura. Per me è un export se vendo a un extra comunitario con consegna in extra way, ovviamente sì, ma rimane un export se vendessi a un way con consegna diretta in extra way. La verità è un export se vendessi a un italiano con consegna diretta della merce in territorio extra way, quindi ciò che mi qualifica, da tutti gli effetti, la mia operazione come esportazione da un punto di vista IVA e doganale è sicuramente quell'uscita fisica delle merci dal territorio dell'Unione Europea. Quindi ogni qualvolta avete questa uscita fisica, voi partite con una fattura non imponibile, articolo 8, siccome l'idea era un po' quella di partire dalla bolla doganale, ma dietro quella bolla doganale c'è per forza una fattura. Adesso che per fare uscire le merci dal territorio unionale dovete per forza fare una dichiarazione indogana. Una dichiarazione indogana che la chiamiamo volgarmente bolletta doganale. È una dichiarazione che viene fatta normalmente non dall'azienda in prima persona, ma per il tramite di un soggetto esterno, per il tramite di uno spedizioniere, per il tramite di un centro di assistenza doganale, per il tramite di un doganalista, per il tramite di qualcuno che vi rappresenti in dogana. Questo è ciò che normalmente avviene in un'operazione doganale di export. Quindi ogni qualvolta c'è un'uscita di merci dal territorio unionale c'è da fare una dichiarazione indogana. Chi materialmente esegue la dichiarazione è questo dichiarante doganale, intesa come casa di spedizione doganalista o centro di assistenza doganale che dir si voglia. E quindi quel qualcuno che si occuperà di presentare la dichiarazione indogana per il vostro ordine e conto deve essere da voi autorizzato. Come faccio io a autorizzare un soggetto esterno alla mia struttura, io azienda, esportatrice, come faccio a autorizzare un soggetto esterno alla mia struttura a compilare per il mio ordine e conto una dichiarazione doganale. Si dice che devo conferire un mandato. Cosa vuol dire conferire un mandato? Significa per iscritto autorizzare quel tale soggetto a rappresentarmi indogana. Io vi lancio un concetto fortissimo dal mio punto di vista. Non può esistere una bolla doganale senza mandato. E su questo poi potremmo stare a discutere tutto pomeriggio, perché non è sempre vero, come lo dico io, nel senso che al lato pratico succede anche che vengono emesse bolle doganali senza il mandato, però c'è qualcosa che non va laddove non ci fosse stato un mandato effettivo. Quindi io vi dico che dal mio punto di vista il mandato si deve essere sempre. Di fatto voi siete l'azienda esportatrice, siete l'azienda che comanda dal punto di vista del mandato. Siete l'azienda che decide chi volete che vi rappresenti in dogana. Quindi il mandato lo decidete voi se farlo one to one, un'operazione o un mandato. Caro spedizioniere, ci autorizza oggi per questa operazione, questa è la fattura, questa è la documentazione, fai la dichiarazione, poi ognuno per la sua strada. Oppure potremmo gestire un mandato cosiddetto aperto. Io faccio sempre le solite esportazioni, sempre il solito spedizioniere, sempre il solito dichiarante doganale e siamo sempre i soliti soggetti che intervengono. Non è che tutti i giorni ti devo autorizzare a farmi emettere la bolla doganale. Allora potrei decidere di conferire un mandato con una valigia temporale più ampia, non legato alla singola spedizione. Quello che chiamiamo un mandato aperto è un mandato in cui autorizzo questo spedizioniere a rappresentarmi in dogana per un lasso temporale di sei mesi, un anno. O l'asco temporale che riterrete voi opportuno nel momento in cui nasce un rapporto fiduciario tra le parti, no? Tra aziende esportatrici e di grande doganale. Ecco, intanto chiedo scusa per la tosse che oggi ti ha veramente perseguitanto, quindi sarà un elemento di grande disturbo. Però voglio dirvi, spesso l'azienda subisce in qualche modo il mandato, il format della mandato che mi sottopone la firma allo spedizioniere, però in realtà comanda l'azienda, l'azienda che decide se conferire il mandato, in che termini conferire il mandato, per quali operazioni doganali voglio conferire il mandato, per quali aspetti dell'operazione doganale voglio che qualcuno agisca per mi ordine e conto in dogana, e per quali aspetti eventualmente non voglio che questa persona agisca e mi rappresenti in dogana. Quindi, un primo documento, che secondo me è propedeutico all'emissione di una dichiarazione doganale, sia essa di import sia di export, perché queste considerazioni che sto facendo valgono tal quali sia per l'import che per l'export, riguarda proprio la questione del mandato. Lo so che le aziende non pongono troppa attenzione al mandato, ma io mi inviterai veramente a farlo, a gestire sempre i rapporti con chi vi rappresenti in dogana attraverso dei mandati scritti, istruzioni scritte, che devono sempre seguire la merce. Quindi non basta il mandato dire voglio che tu mi rappresenti con una rappresentanza diretta o indiretta. E dietro al mandato io gradirei che venisse anche data le istruzioni, voglio che tu compili il volo doganale secondo quello che è il mio interesse di azienda rappresentata. Voglio che il valore sia confermato, che la voce doganale sia confermata, che l'origine sia confermata, che tutti quegli elementi che contraddistinguono la dichiarazione doganale siano confermati secondo il mio volere di soggetto rappresentato. Quindi, già su questo potremmo aprire un capitolo abbastanza inquietante e ampio in cui vi posso dire con la massima serenità che in import gli spedizionieri sono molto molto rigorosi, il mandato lo vogliono, lo pretendono, le istruzioni le vogliono, le pretendono, giustamente nell'interesse di entrambe le parti che questo sia fatto sempre col massimo livello di dettaglio. In export in realtà c'è molta più allegria, c'è molta più serenità e molti meno mandati. Anche se a livello concettuale questa giustificazione non avrebbe alcun senso, la logica è che anche in export il mandato serve. Io vi estremizzo, il concetto provocatoriamente parlando, ovviamente è un'estremizzazione deliberatamente proprio estrema in cui io vi dico, io sono un dichiarante doganale, in teoria avrei anche la patente per fare bolle doganali, ma ve lo dico subito, non scegliete me perché come sempre chi sa fa, chi non sa insegna, se sono qui a insegnare vuol dire che non sa fare niente dal punto di vista dell'emissione delle bolle doganali, io potrei impazzire dicendo a fine corso lasciatemi le vostre pari di IVA e da domani io inizio a esportare autorubate a vostro nome di azienda, anche se siete aziende alimentari, farmaceutiche, io esporto autorubate a vostro nome, se non mi ferma nessuno io esporto le autorubate tranquillamente, il giorno in cui mi fermano il container tutti se la prendono in prima battuta con voi, dicendo ma come tu aziende di parma alimentare esporti autorubate? Vuol dire scusa ma di cosa stiamo parlando? eh c'è una spedizione ferma bloccata in dogana per un controllo se è emerso del container in autolubata ti denunciamo e voi potreste uscirne a testa alta da questa contestazione dicendo scusate un attimo ma di che spedizione parliamo? Chi è il dichiarante doganale? Del Nevo Simone, ma chi è? L'ho visto una volta in un webinar, quello è un mitomane, non gli ho mai dato nessun mandato, è lui che prende iniziative completamente fuori controllo, prendetevela con lui, io azienda sono totalmente strane ai fatti, non ho emesso nessuna fattura, non ho dato nessun mandato, è chiaro che se al contrario voi mi dite guarda io ho un macchinario per l'industria alimentare, caro Del Nevo fammi una bolla doganale, mi date la vostra doganale, origine, tutto quanto, io compilo la bolla doganale che ho scritto macchinario per l'industria alimentare, a vostro nome, aprono il container, c'è un'autorubata, è colpa vostra, io di caro doganale che cosa ne sapevo? Se c'era l'autorubata o il macchinario, mica vengo in azienda a vedere cosa c'è ogni volta dentro il container, quindi vedete la presenza, l'assenza del mandato, tanto in import quanto in export, ha maggior ragione in import che in export, serve anche per definire responsabilità, colpa mia, colpa tua, cosa sapevi, cosa non sapevi dell'operazione che si sta ponendo in essere, no? Quindi nell'interesse di entrambi definire bene i mandati, definire bene le istruzioni, quindi ribadisco il concetto, non può esistere bolla doganale senza un mandato scritto, senza istruzioni scritte. Superato brillantemente il mandato, quindi io, azienda esportatrice, scelgo il mio dichiarante doganale e speriamo che lo scegliate, davvero voi non lo subiate come spesso succede, scelgo il dichiarante doganale di fiducia, conferisco il mandato, do le istruzioni e voglio che lui esegua il compito che gli sto in qualche modo affidando in questo momento. Il dichiarante doganale quindi ha il compito di tradurre nella bolla doganale, come viene volgarmente detta, l'intenzione di esportare e o importare, se guardiamo un attimo contemporaneamente anche il lato import. Dal mandato l'ospedizione trae quindi delle informazioni assolutamente utili, ma dove trae le informazioni più importanti e fini di una compilazione di creazione doganale è sicuramente dalla fattura, fattura commerciale in genere, a volte pro forma, ma non c'è bolla doganale senza fattura, non c'è bolla doganale senza valore delle merci, se il valore delle merci dove lo traggo? Principalmente dalla fattura, perché il codice doganale quando mi dice che valore scrivi in bolla doganale il regolamento 952 2013 che è il codice doganale inizia appunto che il valore doganale è un valore normale, un valore di transazione e quindi non c'è documento più bello al mondo della fattura, fattura che deve essere fedele e copia degli ordini, delle conferme d'ordine, dei contratti dove si è conformalizzato l'accordo tra le parti, allora è lì che l'indoganalista trae le informazioni della bontà del dato da tradurre poi nella dichiarazione doganale di export, quindi noi da tempo ci siamo rassegnati un po' all'idea che la fattura in export è una fattura immediata accompagnatoria, è difficile oggi fare fatture differite in un mondo di export, mentre negli scambi intracommunitari, recessioni intracommunitari, voi si sentite liberi qualche modo di mettere fatture immediate accompagnatorie o fatture differite, nel mondo export penso che facciate molta molta più fatica a emettere fatture con cioè fatture differite, poi se qualcuno dovesse mai interessare vi dico che c'è già una proposta seria definitiva dell'Unione Europea datata a dicembre 2022 con un progetto di rivoluzione dell'IVA comunitaria che si dovrebbe concludere entro il 2028 dove tra le tante rivoluzioni fiscali sarà l'abolizione della fatturazione differita anche negli scambi intracommunitari, ma questa è un'altra storia, altro giro, altra corsa, ne riparleremo se ci rincontreremo in un altro webinar. Dal punto di vista dell'operatività doganale, se parliamo dell'attualità senza guardare il futuro prossimo, il futuro è veramente prossimo perché è settembre, allora una bolla doganale di export oggi come nasce? Una bolla doganale di export nasce nei computer del dichiarante doganale che una volta ha ricevuto il mandato, una volta ha ricevuto una lettera di istruzioni sulla corrente comprensione da bolla doganale. Una volta messovi alla firma la dichiarazione di libera esportazione, altro giro, altra corsa di dichiarazione di libera esportazione, che cos'è? Lo vedete tutti i giorni, penso, quel lenzuolo perché non saprei più come altro definirlo, sempre più articolato, sempre più complesso in cui, soprattutto in questo momento storico di soggetto ad imbarghi russi e bielorusse, Corea, Iran e via dicendo, il dichiarazione doganale chiede all'esportatore ma questa merce di cui mi stai affidando il compito di dichiarare in dogana la tua volontà di esportare a titolo definitivo è o non è di libera esportazione? Cosa significa è o non è? Tu, esportatore, hai controllato se in base alla voce oganale, in base alle caratteristiche tecniche del prodotto, questo prodotto, non rientra in alcuno di questi regolamenti comunitari che io ti cito come spedizioniere nel dichiarazione di libera esportazione perché è compito tu, esportatore, verificare il suo prodotto rientrando nei regolamenti non è più di libera esportazione non rientrando non venendo citato nei regolamenti automaticamente risulti di libera esportazione ed è quindi il compito dell'esportatore dichiarare il compito dell'esportatore verificare i regolamenti leggersi, riconsultarli, studiarli e una volta preso a coscienza di quali possano essere le limitazioni nel modo del proprio prodotto eventualmente dichiarare sì, il prodotto di libera esportazione il prodotto non è dual use non è fatto con peli di cane gatto non pellice di foca non è uno strumento di tortura non crea buchi nello zoro quel fiume in piena le dichiarazioni che oggi contraddistinguono le vostre dichiarazioni di libera esportazione è chiaro che lo spedizioniere normalmente non sa neanche chi siete spesso non sa neanche cosa fate la spedizione intesa come casa di spedizione colui che spedisce fisicamente le merci colui che organizza la spedizione normalmente ha creato un format di dichiarazione di libera esportazione senza più guardare in faccia chi siete e chi non siete azienda alimentare, farmaceutica o meccanica ognuno ne può fregarti meno se dichiarami tutto così io spedizioniere quando prendo le merci in azienda Parma mi reco in dogana qualunque cosa serve alla dogana me l'ha già dichiarato questo è il senso di quello che fanno gli spedizionieri perché la dichiarazione di libera esportazione in realtà serve al doganalista non tanto alla casa di spedizione serve a chi materialmente compila la dichiarazione doganale perché lì quando si compilerà la bolla doganale quando si inserirà nella bolla doganale di Expo l'attuale bolla doganale di Expo in casella 33 la vostra doganale allora il compito doganale richiederà per quella tipologia di prodotto se è dual use se è fatto di pelle cani e gatti con pellicce di foca sono strumento di tortura sì o no ogni prodotto ha le sue peculiarità ogni prodotto ha le sue dichiarazioni di libera esportazione allora dentro lo spedizioniere dice dimmi tutto come in caso di spedizione inteso come chi organizza la spedizione non chi organizza l'operazione doganale chi organizza la spedizione dichiarami tutto così quando arriverò in dogana qualche cosa mi chiedere ma l'ha già dichiarata questo è il senso forse poco senso ma è questo il senso con cui si opera normalmente quindi voi alla fine siete quasi costretti a dichiarare tutto anche l'inutile certamente sì io azienda meccanica che dichiari che il mio macchinario non è fatto con pelli di cane gatto e pellucce di foca ha senso? no però lo spedizione me lo chiede lo stesso allora vi dico è chiaro che qui avete due strade o dichiarate tutto sapendo dichiarare un sacco di cose inutili ma se sono inutili comunque non dannose per l'azienda oppure dovete studiare quelle che sono dichiarazioni di libera esportazione pertinenti per il vostro mondo di azienda e cercare di imporvi nella logica del rapporto con lo spedizioniere e con il giornalista di un format vostro aziendale che dichiari le dichiarazioni veramente necessarie e utili per l'esportazione non è facile imporre il proprio format perché spedizioniere che hai dichiarazione che trovi e spesso lo spedizioniere ha le sue procedure i suoi processi le sue logiche fa fatica ad accettare un'eventuale vostra forma di dichiarazione di libera esportazione ora vi dico fate quello che potete a me non preoccupa la circostanza che firmiate eventuali dichiarazioni inutili di libera esportazione a me preoccupa che firmiate dichiarazioni necessarie per il vostro prodotto senza averle comprese allora quello sì che mi preoccupa davvero non ho visto aziende a firmare allegramente no dual use ma convinti che il dual use riguardi armi dual use non sono le armi le armi sono armi chi è la beretta a Vrescia l'ottomelara la spezia chi fa pistole chi fa cararmati ha tutto un mondo di armamenti non siete voi voi siete aziende che non fate parte del settore armi ma siete aziende che fanno prodotti concepiti pensati studiati per un impiego civile ma forse troppo performanti diventano duali cosa significa diventano duali significa che potrebbero assumere un impiego non civile perché il bene duale vuol dire questo che potrebbero assumere un impiego non civile che non è necessariamente l'arma perché a volte anche la costruzione centrale atomica è chiaramente un bene che si presta a quella costruzione centrale atomica è chiaramente un bene duale adesso non voglio entrare nei tecnicismi del dual use però quello che voglio dirvi siccome qua oggi siamo per parlare di bolle doganali di lettura di bolle doganali tutte queste dichiarazioni di libera esportazione tutti i documenti che voi allegherete alla vostra operazione doganale di export vengono tutti trascodificati nella casella 44 dell'attuale bolle doganale casella 44 che dal mio punto di vista rappresenta il cuore della bolle doganale una delle caselle meno lette dagli italiani ma una casella che merita un'attenzione perché quando iniziate a leggere nella casella 44 Y901 può dire che l'azienda voi ha dichiarato una dichiarazione di libera esportazione che il bene non è duaglioso e lo spensionale trascodifica in Y901 un sintetico Y901 in bolle doganale sta dicendo alla dogana l'azienda ha dichiarato che il bene non è duaglioso tutti gli Y901 Y901 Y902 e via dicendo sono tutte negazioni tutte trascodifiche delle vostre dichiarazioni di libera esportazione quindi dobbiamo dare giusto peso alla casella 44 della bolle doganale perché lì sono tutti i documenti c'era l'euro 1 non c'è l'euro 1 c'è la fattura commerciale trovare scritto N380 nella casella 44 della bolle doganale vuol dire fattura commerciale normalmente viene scritto N380 col numero della fattura per creare quell'abbinamento unico fattura bolle doganale bolle doganale fattura quindi vuol dire che allegata a quella bolle doganale c'è quella fattura numero X quindi N380 Napoli 380 vuol dire fattura commerciale N325 vuol dire eventualmente fattura pro forma quindi questo è uno dei tanti codici perché la casella 44 può riportare qualche migliaio di codici quindi poi dovete anche imparare a trascodificare questi codici perché saper leggere la bolle doganale mi impone di andare a saper leggere tutti questi dati no? Allora diciamo che dal punto di vista poi della trascodifica dovete imparare a usare bene il portale dell'agenzia dogane che penso conosciate tutti l'agenzia delle dogane taric ci sapete arrivare tutti siamo andati insieme anche la volta scorsa per andare a fare qualche gioco divertente sulla definizione delle voci doganali no? Allora io vi faccio vi condivido un attimo lo schermo per farvi vedere uno strumento che probabilmente conoscete tutti ma che potrebbe in realtà tornare comodo a tutti allora condividi schermo portale dell'agenzia delle dogane allora qua ci sapete arrivare tutti dopo il scontato basta scrivere l'agenzia dogane taric sul portale su un motore di ricerca scusate e arrivate qua tutti altrimenti siamo mossi qua nomenclature taric visualizza indice per parole siamo divertiti tantissimo con i partecipanti della nomenclatura combinata oggi vi porto qua in certificati comunitari nome certificato e qui sono le lettere della casella 44 y scrivo 901 e qui non funziona fantastico il bello della diretta sentiamo da 900 non funziona fantastico portare l'agenzia dogane oggi ha deciso di farci lo terzo di non funzionare fantastico prego l'ultimo identitivo non funziona niente il classico il bello della diretta comunque qui avrebbe dovuto in realtà spiegarmi cosa vuol dire il codice y900 cosa vuol dire y901 comunque al di là che in questo momento non stia funzionando potete muovervi qua per andare a vedere i vari proviamo con la n n380 fattura commerciale vedete quando trovate scritto n380 corrisponde a una fattura commerciale quindi questo è lo strumento per trascodificare quei codici che trovate in casera 44 che in realtà il dichiarante doganale ha tradotto in bolla doganale basandosi sui documenti commerciali che avete allegato alla spedizione o sulle dichiarazioni di libera esportazione che avete reso nel momento in cui avete fatto la vostra esportazione ma allora se la casera 44 è importante non c'è dubbio che sia assolutamente importante perché da lì ci sono gli abbinamenti univoci tra il fascicolo elettronico documenti legati all'export e bolla doganale dichiarazione di libera esportazione e bolla doganale tutto il legame si crea lì dentro è la casella più vasta dal punto di vista dei codici perché lì ne trovate centinaia e centinaia se non ho perso anche il conto ma saranno 6-700 i codici che possono apparire in una bolla doganale quindi una lettura di una bolla doganale non può che ripartire da lì dalla comprensione della casella 44 ma facciamo un passo indietro noi siamo ancora gli esportatori dovevamo ancora decidere dove far dogana sì perché se è vero che sto andando in Svizzera così facciamo pure poca strada non ci complichiamo la vita con navigazioni negli oceani vendo a un cliente extracomunitario prendo l'esempio della Svizzera siamo io italianissimo il cliente svizzarotto nessun altro lì fuori noi due la bolla doganale viene gestita da un dichiarante doganale chi sarà l'esportatore qualcuno potrebbe iniziare a complicarmi la vita dicendo dipende dalla resa dipende dall'exworks un DAP un CPT no io vi dico che se andiamo a vedere l'intestazione della bolla doganale non c'è incota che tenga il codice doganale dell'Unione Europea vieta sottolineo vieta di intestare una bolla doganale un extracomunitario quindi se diciamo io lo svizzarotto anche se vendessi in resa exworks anche se l'accordo commerciale tra le parti fosse io italiano me ne frego della bolla doganale non le voglio neanche sentire parlare non la voglio pagare sta bolla doganale la bolla doganale viene intestata a chi? all'italiano non può essere altro che così perché è l'unico comunitario a cui possa essere intestata la bolla doganale ho venduto exworks sto dicendo non voglio pagare l'emissione della bolla doganale ci sta però la bolla doganale la intestano comunque a voi perché un extracomunitario per intestarsi una bolla doganale lo potrebbe anche fare ma ha bisogno di un rappresentante fiscale di un soggetto che lo rappresenti anche in dogana con una rappresentanza indiretta si può forse fare qualche occasione ma la storia si complica terribilmente non certo per un'operazione spot per cui evidentemente per me l'esportatore che appare nella casella in alto della bolla doganale non può che essere un soggetto comunitario e non c'è nessuno meglio al mondo del venditore che possa assumere questa veste di esportatore sottolineo che l'assumere la veste di esportatore dispone a diritti e doveri è chiaro che il diritto a questo punto sono io che devo conferire il mandato diritto a dare le istruzioni su come voglio che sia correttamente compilata la bolla doganale ma ho anche dei doveri rispondo del contenuto della dichiarazione doganale nel bene ma soprattutto nel male quindi attenzione perché questo della responsabilità sul contenuto della dichiarazione doganale non è una cosa di poco conto perché comunque la dichiarazione doganale è un atto pubblico ci sono delle responsabilità ci sono delle conseguenze per eventuali errori che possano essere commessi in sede di compilazione della bolla doganale ci sono sanzioni sì ora vi dico subito le sanzioni doganali di cui bisogna aver paura sono quelle import molto meno quelle export ve lo dico con la massima serenità in export mi preoccupano di più le conseguenze fiscali le conseguenze IVA mentre in import la dogana è molto più bellicosa in import la dogana ha tante prerogative ma alla fine deve tutelare il mercato comunitario deve impedire che un prodotto entri sia pericoloso deve impedire che un prodotto entri non paghi giusti diritti doganali cosa che in Expo non succede perché in Expo non ci sono diritti doganali da dover pagare no? intanto ho visto che qualcuno sta iniziando ad animare la chat se vendo FCA a aeroporto a uno spagnolo per merce con destinazione Costa Rica l'esploratore deve essere italiano corretto? se vendiamo a uno spagnolo ok uno spedizionario di doganale mi ha detto che avendo le mie salvature di cose per come le 3B deve essere lo spagnolo per questo dubbio beh qui stiamo andando già accanto a operazioni un po' più complesse stiamo già parlando di un'operazione triangolare c'è un italiano simile il barzelletto ai bambini un italiano uno spagnolo è un soggetto del Costa Rica avendo venduto FCA a aeroporto sto pensando a un FCA in Italia il trasporto internazionale probabilmente gestito dal soggetto spagnolo quindi questo mi fa pensare l'articolato mio comma lettera B di riferimento per la fattura di export in questo caso si può incestare comodamente la bolla doganale anche allo spagnolo a condizione che la fattura del soggetto italiano sia regolarmente citata ancora una volta in casella 44 della bolla doganale perché io italiano e qui aggiungo un concetto che per me sarà fondamentale tutto il nostro pomeriggio ogni fattura che viene emessa non imponibile senza l'articolo 8 ogni fattura che viene emessa non imponibile l'articolo 8 lo ribadisco due volte deve avere una traccia doganale vi sfido datemi subito dei casi in cui vi permettete il lusso di avere una fattura emessa non imponibile l'articolo 8 primo comma lettera A o B che sia in questo caso mi interessa poco senza bolla doganale per me non esiste il caso non può esistere il caso una fattura non imponibile l'articolo 8 vuol dire che è una fattura che richiederebbe l'applicazione dell'IVA ma verificarsi in certe condizioni l'IVA non l'applico e la condizione per l'articolo 8 è prova dell'export quindi un articolo 8 comma lettera B ci può stare ci può stare anche che la bolla doganale me la vuoi intestare al soggetto spagnolo che gestisce il trasporto internazionale a me va anche bene sia lui l'esportatore ma siccome la fattura è non imponibile l'articolo 8 io devo dimostrare di avere comunque compartecipato a quell'export dello spagnolo devo chiedere pretendere ottenere che la mia fattura sia citata in casa della 44 devo chiedere pretendere ed ottenere che una copia di quella bolla doganale completa di MRN mi venga restituita devo poter dimostrare che quindi quella mia fattura emessa correttamente senza IVA sia stata regolarmente dichiarata in dogana assolutamente sì allora è chiaro che se andiamo poi accanto alle triangolazioni ovviamente oggi non ne usciamo vivi nel senso che abbiamo poco tempo a disposizione e le casistiche di triangolazioni può sembrare una minaccia e forse la è io ho un'autonomia di otto ore a parlarmene in tutti i casi possibili immaginabili quindi non vorrei entrare troppo nel dettaglio però insomma anche la triangolazione non so perché anche le triangolazioni hanno le loro difficoltà ultimamente l'agenzia delle entrate sta dando una stretta fortissima anche al mondo delle triangolazioni sta cercando forse di ostacolare al massimo il mondo delle triangolazioni per cui diciamo che si possono fare ma con le dovute cautele indubbiamente il allora io vedo dei quesiti precedenti che faccio fatica a decriptare perché signora Gloria scriveva in allegato bolle doganali ma io non ho gli allegati quindi non saprei come rispondere verifica merce blocco sudoku questo vuol dire che la merce è andata in verifica e quindi bisogna capire l'intervento dell'agenzia delle dogane sudoku è sostanzialmente questo acronimo che usano adesso l'agenzia delle dogane per indicare quello che insomma lo sportello unico con cui la dogane fa tutti quelli che sono i controlli doganali però è chiaro che se tu un blocco merce lo dovrei vivere come un blocco temporaneo per vedere l'esito della verifica quindi poi bisogna capire se è stata una verifica fisica documentale come è finita l'operazione che dovrebbe comportare poi un successivo sblocco così come buongiorno c'è modo di controllare l'esito dell'uscita comunitaria anche per i bolli doganali fuori dall'Italia questo c'è Barbara sta arrivando al sogno di tutti gli italiani che non verrà probabilmente risolto neppure a settembre nel senso che adesso vi spiego questo aspetto poi cerco di rispondere anche la signora Barbara al quesito che sta ponendo nel momento in cui viene generata la fattura pechillist mandati tutto quel fiume di creazione di libera esportazione che in qualche modo ci stavamo raccontando noi abbiamo la merce pronta in stabilimento arriva il vettore scelto o non scelto da voi pagato o non pagato da voi si presenta carica la merce e va prima domanda mando va dove va a fare dogana dove va a espletare le formalità doganali diciamo che può scegliere qualunque dogana dell'Unione Europea purtroppo aggiungerei io nel senso che effettivamente il codice doganale non vieta di emettere una bolla doganale per un'azienda di Parma a Rotterdam piuttosto che la Spezia o Parma stessa quindi il vettore si sente in qualche modo libero di espletare le formalità doganali dove ritiene opportuno ovunque vengono emesse queste bollette doganali che sia la bianconese qua a Parma stesso piuttosto che la Spezia o Rotterdam che sia il gioco avviene in questi termini oggi poi tra poco vi ribadisco sempre per entrare in un frullatore di una rivoluzione doganale epocale non parlo di cambiamenti parlo di rivoluzione doganale vi parlo dell'attualità vi spiego cosa sarà per succedervi tra poco la logica è da che mondo è mondo da che dogana è dogana dove vai le merci vai a far dogana mi frego con le merci a bianconese c'è l'agenzia delle dogane alla dogana di Parma dichiaro la mia volontà di voler esportare a titolo definitivo le merci quindi a fronte delle mie fatture mandate e tutto il resto della documentazione che ho prodotto il dichiarante doganale prescelto che sta operando su bianconese dichiarerà compilando a sistema la dichiarazione doganale la volontà dell'azienda parmitiana di voler esportare il prodotto della nostra Svizzera che abbiamo preso prima come esempio l'agenzia doganale di Parma riceve un flusso come dicono i dichiaranti doganali la bolla doganale viene flussata in dogana c'è un invio telematico banalmente quando la bolla doganale viene flussata in dogana c'è un invio ecco in quel momento nasce la dichiarazione doganale in quel momento la dichiarazione doganale viene ricevuta dall'agenzia doganale in quel momento l'agenzia doganale sorteggia il tipo di controllo che vuole essere fatto o non fatto all'operazione doganale un controllo che è frutto di un sorteggio un sorteggio non casuale un sorteggio che tiene conto di analisi preventive di rischio un controllo che farà controllare più spesso alcune aziende e meno spesso altre un controllo che sarà mirato su alcuni prodotti più spesso e meno spesso sugli altri un controllo che è pilotato in parte da Bruxelles e dall'Unione Europea in parte su campagne nazionali dall'agenzia doganale centrale di Roma quindi un controllo che è un sorteggio sì ma non casuale tant'è vero che qualcuno dice me la dogana non la vedo mai mi ha mai rotto le scatele sono a posto così qualcuno mi dice me la vedo anche troppo spesso mi fermano spesso magari non ha nulla a decepire però mi dà fastidio che mi fermino continuamente vuoi perché mi rallenti la spedizione vero è lo dico io sbilanciando il mio titolo personale che i controlli all'export in realtà sono molto contenuti voi se vi sentite perseguite dalla dogana è più una logica di import dove i controlli sono più serrati sono più frequenti sono più numerosi in export è difficile sentirsi perseguitati dall'agenzia dogana che ha percentuali bassissime di verifiche merci se siete perseguitati siete all'1% ha verifiche bassissime sui controlli documentali ha una frequentissima casistica di non controlli di CA di controlli automatizzati quando sulla bolla doganare nell'ultima casella in basso a sinistra trovate l'esito dell'operazione doganare trovate scritto CA controllo automatizzato canale verde nessun controllo ci sono fidati non hanno guardato nelle merci nei documenti NC ha senso nessun controllo se trovare CD controllo documentale vuol dire che c'è stato un controllo sui documenti sul fascicolo elettronico su tutti quegli documenti che avete prodotto alla base dell'emissione della bolla doganare superate i controlli liberi tutti VM visita merce verifica fisica del prodotto controllo di apertura del container vediamo cosa c'è dentro la merce dentro il camion il container tutto a posto liberi tutti svincolo delle merci ora al di là di quello che possa essere stato il controllo sì il controllo no in cui ribadisco un concetto che qualcuno avrà già sentito ma che per me è uno dei concetti più importanti in assoluto doganalmente la cosa peggiore che vi possa capitare udite udite è il mancato controllo doganale nel senso proprio il controllo del CA del nessun controllo controllo automatizzato è molto bello è molto easy come direbbero i giovani d'oggi è molto semplice perché non mi controlli mai va tutto bene io vi dico che doganalmente è la cosa peggiore che mi possa capitare perché potrebbe diventare un pericolosissimo boomerang nella misura in cui oggi faccio un export con una serie di documenti verso lo svizzarotto mio storico cliente nulla da recepire la dogana va in nessun controllo perfetto perfetto chi l'ha detto nessuno semplicemente nessuno l'ha guardato la settimana prossima mi capita solito cliente solito tutto come li faccio i documenti uguale al precedente sorteggione nessun controllo perfetto 50 export di fila solito cliente solito tutto nessuno mi dice che è sbagliato per me è tutto giusto mi sento il mago della dogana io non ne sbaglio una di operazione doganale il giorno in cui la dogana mi contesta la 51esima export però mi contesto i documenti la mia risposta naturale è ma io non ho già fatto i 50 ma non è possibile che ho sbagliato questa la dogana cosa fa? mi mando una PEC dicendo ti contesto l'oggi ti contesto ieri l'altro ieri i tre anni precedenti se è vero che ne fate 50 e ti contesto 51 adesso di operazione doganale con un verbale unico vado a ritroso con un effetto retroattivo triennale ti chiedo tutti quelle che sono le sanzioni scaturenti da quell'errore che ha ripetuto 50 volte allora non era meglio ma fermatemi subito ditemi subito che non capisco niente fate in modo che mi fermi perché se non mi ferma nessuno mi vado avanti oltranza ma ribadisco e forse è chiaro il concetto fermatemi subito ditemi che non capisco niente subito e almeno la seconda operazione non la sbaglio più la signora Emanuela tra l'altro sta dicendo mi è capitato che in import mi andassi in visita qualsiasi importazione che gestivo sempre con lo stesso spedizioniere cambiando spedizioniere le visite sono normalizzate può succedere di tutto la storia ci ha insegnato che può succedere di tutto potrebbe essere non voglio colpore di valorizzare nessuno che fosseci anche un'attenzione su uno spedizioniere che magari si era prestato o era in quel momento indagato su alcune operazioni particolari perché l'analisi del rischio coinvolge l'importatore lo spedizioniere il dichiarante doganale coinvolge la voce doganale l'origine della merce ci sono campagne mirate che magari colpivano quel particolare prodotto sempre e comunque quell'origine della merce sempre e comunque ci sono tantissime logiche illogiche che possono stare dietro quel banale sorteggio dell'operazione doganale quindi non potrei dare una risposta certa a quello che è successo al signor Emanuele con queste operazioni di import contraddistinte sempre da una verifica però se da un lato vi dico è meglio che mi verifichi le merci è meglio se mi contesti eventualmente subito un eventuale errore quello che posso altrettanto dirvi è che una verifica doganale effettuata superata brillantemente con successo senza nulla da recepire non è sinonimo di correttezza è vero che questo qualcuno dice fermatemi tutto e guardatemi tutto sì il fatto che quel funzionario quel giorno mi aveva fermato l'operazione l'abbia guardata nei documenti l'abbia guardata nella merce l'abbia guardato tutto non aveva dovuto nulla da recepire non è neanche questo sinonimo di correttezza dell'operazione un altro funzionario un altro giorno in un'altra località potrebbe certamente comunque rimettere ancora pesantemente in discussione con l'operazione sì la risposta è tragicamente sì ve lo devo assolutamente confermare il allora di fatto se al di là di quello che possono essere questi sorteggioni più o meno entusiasmanti la nostra bolla doganale eravamo poi io vi faccio prendere l'entusiasmo della chiacchierata mi sono perso ma eravamo ancora con l'azienda italiana che vuole vendere la Svizzera stiamo andando con il nostro camion bianconese stiamo seguendo il principio doganale storico dove alle merci presenti la dichiarazione doganale siamo a Parma quindi siamo nella provincia di Parma conferiscono il mandato il dichiarazione doganale compila la bolla doganale flussa la merce flussa la bolla doganale in quel momento nasce il DAO in quel momento nasce la bolletta doganale il documento amministrativo unico un documento attraverso il quale l'azienda manifesta la volontà di Parma di voler esportare titoli definitivi le merci quello è il documento su cui stiamo incentrando l'attenzione noi fatto di un esportatore di un destinatario fatto di un dichiarazione doganale fatto di una voce doganale fatto di un valore di un incot di 54 caselle 54 caselle che hanno ovviamente tutte un loro sì un loro perché meglio un oggi non abbiamo la pretesa di vederle tutte non siamo in grado di spiegarvele tutte le caselle in un tempo così breve quello che deve essere chiaro che oggi parleremo soprattutto di export definitiva regime doganale ordinario una merce che esce per non tornare idealmente mai più questo non vuol dire che non possa tornare ma la sto dichiarando per uscire perché la mia idea è che non torni mai più e se mai dovesse tornare tornerà sotto forma di import definitiva o forse di reintroduzione in franchiscia doganale se fosse un banale reso ma questi sono regimi doganali speciali già la reintroduzione in franchiscia doganale di cui non so se avremo nel tempo ne voglia di parlare esce DAO flussato il DAO parte la bolla doganale completa di tutti i suoi elementi la doganale sorteggia controllo sì controllo no con quei canali che abbiamo visto in quel momento nel momento in cui si decide di non esploitare il controllo o il controllo viene fatto e superato brillantemente viene concesso lo svincolo delle merci a quel punto nasce il DAE il documento di accompagnamento delle esportazioni il DAO quindi è la dichiarazione doganale nella sua completezza quel flusso che il dichiarante doganale lancia verso la dogana il DAE il documento di accompagnamento delle esportazioni è il documento che discende dal DAO una volta concesso lo svincolo delle merci che compito ha il DAO il documento di accompagnamento delle esportazioni che tutte le volte si vocifera che verrà eliminato verrà eliminato ma probabilmente non verrà eliminato neanche a settembre adesso poi lo scopriremo solo vivendo il DAE è un documento che serve per accompagnare le merci dalla dogana di partenza Parma alla dogana di uscita che sia la Spezia che sia che sia Ponte Chiasso che sia comunque qualunque sia il confine Unione Europea il DAE serve per accompagnare le merci dalla dogana di partenza alla dogana di uscita sul DAE nasce l'MRN il Movement Reference Number codice alfanumerico 18 cifre codice univoco una bolla un MRN e in maniera univoca quella MRN contraddistingue quella bolla doganale allora il DAE serve per accompagnare le merci come dicevo dalla dogana di partenza alla dogana di uscita serve per consegnare un documento alla dogana di uscita la quale la dogana di uscita ha il compito fondamentalmente di leggere l'MRN e confermare la dogana di partenza alla venuta uscita alle merci del territorio della UE questo è il compito del DAE a voi il DAE non serve a niente aziendalmente parlando il DAE deve accompagnare le merci alla dogana di partenza alla dogana di uscita quindi quando il vettore si presenta al confini Ponte Chiasso la Spezia Rotterdam e noi si stia andando va ad esibire il DAE la dogana di uscita ultima dogana di uscita dell'Unione Europea legge speriamo con la pistola ottica il codice MRN spara un messaggio risultati di uscita sulla dogana di partenza perché quando eravamo a Parma quando eravamo a Bianconese nella casella 29 della bolla doganale è stato chiesto al vettore ma tu mando vai quale sarà la tua dogana di uscita ma lo devi dichiarare a partenza quando sei a Bianconese dirmi se esce Ponte Chiasso se stai andando alla Spezia o Rotterdam perché io dogana di bianconese dogana di Parma indico già la dogana presso la quale attenderò un messaggio che mi confermi l'avvenuta uscita dell'emersi dal territorio della UE si chiamiamo Ponte Chiasso e Ponte Chiasso sia l'MRN viene stampato a partenza perché qua siamo ancora a Parma lanciamo il DAO viene fatto il controllo sì controllo no rilasciato il DAE una copia del DAE viene dato al vettore il vettore parte da Bianconese si fa tutta la strada per arrivare a Ponte Chiasso arriva a Ponte Chiasso e va ad esibire il DAE a quel punto starà compito del vettore esibire il DAE la dogana di uscita legge il codice MRN sparerà un messaggio sulla dogana di partenza la Parma di turno che era in attesa quanto tempo è disposto ad attendere la dogana di Parma quel messaggio risultato di uscita dalla dogana di uscita a Ponte Chiasso 90 giorni ogni bolla doganale ha una validità temporale massima a 90 giorni data emissione bolla Parma 90 giorni o ti chiudi o non ti chiudi se non ti chiudi hai un problema esportatore sì perché la prova inconfutabile della venuta esportazione è quel messaggio che deve chiudersi sui confini è quel messaggio che tassativamente deve trovare la naturale chiusura con la dogana di uscita quando l'uscita conferma l'uscita vi sono tutti felici e contenti la dogana di uscita non conferma per mille misteriosi motivi la venuta uscita dell'emersio del territorio la bolla doganale rimane pending la bolla doganale rimane in sospeso la bolla doganale non ha naturale conclusione quindi passati 90 giorni lo diventa operazione scaduta come ve ne accorgete voi? perché è compito dell'esportatore inseguirle queste prove dell'exporto è compito dell'esportatore verificare sempre se l'MRN abbinata ad ogni suo export trova la sua naturale conclusione nei confini se si chiude penso che tutti voi stampiate archiviate e passate alla prossima operazione doganale se non si chiude e andando a digitare l'MRN sul portale dell'agenzia del dogane perché ogni volta fate un export voi chiedete il numero di MRN al vostro dichiarante doganale vostro o non vostro ma glielo chiedete con l'MRN alla mano andate sul portale dell'agenzia del dogane e disitate l'MRN e vi aspettate l'esito esito positivo è merce uscita al giorno X dalla dogana Y in data Z bingo chiudo vai stampo prossima anche se puoi stampare lascia il tempo che trova perché la prova è quella del sistema non è il vostro foglietto ma sono più tranquillo stampandolo stampiamo pure questo foglietto ma se digitando l'MRN fosse in attesa di visto uscire abbiamo un problema sì perché perché la merce non è sottuscita allora se dopo 90 giorni l'esito è attesa 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 ha visto uscire a un certo punto diventa operazione scaduta se l'operazione diventa scaduta non è uscita se non è uscita ho un problema grosso di natura IVA perché con la fattura emessa non imponibile senza articolo 8 per essere stata correttamente emessa senza applicazione dell'IVA devo dimostrare che la merce abbia lasciato il territorio della UE e la prova non ce l'ho allora qui dovremmo iniziare a giocare con le prove alternative dovremmo iniziare a dire a dogana ma io sono sicuro che è uscito a dogana di Parma ci dimostrano se tu mi dessi dei documenti inconfutabili che dimostrino che la merce era veramente lasciata nel territorio della UE io te la chiuso l'ufficio con la bolla doganale ma se questi dati questi documenti inconfutabili non ce li hai io a dogana di Parma come faccio a prendermi la responsabilità di dire che la merce è uscita visto che la dogana di uscita non mi sta dando quelle stesse conferme però qui bisogna iniziare poi a giocare con tutte le prove alternative adesso poi rispondo poi a tutte le altre varie domande ma io dico è chiaro che laddove io abbia emesso una bolla doganale a Parma o un MRN contraddistinto da 18 cifre alfanumeriche dove la terza e la quarta cifra è sito IT perché la dogana di Parma è una dogana italiana avesse emesso una bolla doganale a Verona sarebbe altrettanto IT quindi avendo un MRN comunque sempre messo sul territorio italiano il mio MRN sarà sempre contraddistinto dalla sigla IT e laddove sia contraddistinto dalla sigla IT io avrò sempre la possibilità di tracciare sul portale dell'agenzia del dogane il finale della storia io saprò sempre se questa merce alla fine se è uscita o non è uscita quantomeno il portale mi darà un'evidenza della storia se si è chiusa in qualche modo o non si è chiusa correttamente di fatto la domanda che era stata posta in precedenza la signora Barbara chiedeva ma vedo che sono tante barbare comunque la signora Barbara che ha scritto qualche minuto fa mi diceva ma io a volte il MRN neanche ce l'ho italiano non è contraddistinto dalla sigla IT è contraddistinto da una sigla che so LVSI nell'est Europa allora quando vado sul portale dell'agenzia del dogane mi si divide tra MRN italiani e MRN non italiani mentre gli MRN italiani quindi contraddistinti dalla sigla IT un finale di storia me la racconta sempre chiusa o non chiusa che sia la bolla doganale ma io la storia la chiudo in qualche modo so come è finita la mia operazione nel quelli dell'Unione Europea non vedo quasi nulla perché il portale per esserci c'è ma è in grado di tracciare solo gli MRN nati in un paese dell'Unione Europea e chiuso in un dogana di partenza un paese dell'Unione Europea non italiano e chiuso in una dogana dell'Unione Europea diverso dal primo paese quindi facessi una bolla doganale in Francia per chiudere in Spagna il finale lo vedrei se viene messa una bolla doganale in Francia partenza a Francia uscita a Francia non vede più niente quel portale quindi alla domanda c'è modo di controllare esito di uscita comunitaria perché bolla doganale messa fuori dall'Unione Europea in realtà l'unica strada è andare ad operare sui siti delle dogane locali al di là di quello che è il portale dell'Unione Europea che funziona e non funziona dovresti andare accanto ai portali delle singole dogane un segnalo che c'è per la prima volta un'apertura di una sentenza della Corte di Cassazione che scrive che anche gli MRN emessi in dogane estere possono essere considerati i vali e i provi della venuta export la prima volta che viene scritto in qualcosa di questo tenore però mi andrei molto cauto nell'andare ad espressare le formalità doganali di export perché i nostri verificatori tendono ancora a contestarle queste bolle doganali per cui faccio fatica a trovare una soluzione blindata per la signora Barbara Polastri che ha scritto poco fa la signora Barbara invece la Tusi qui scrive export in Albania dogana di uscita dichiarata la partenza a Brindisi dogana effettivamente uscita a Bari ci possono essere problemi con l'appuramento dell'MRN no nel senso che vi dico questo è un MRN il cui esito essendo nato in Italia lo avremo certamente garantito mi aspetto che la consultazione di quell'MRN reciti una cosa di questo tipo merce uscita al giorno X dogana Y in data Z rilevate difformità cosa significa quando trovate scritto rilevate difformità significa che la dogana di uscita effettiva non è stata quella dichiarata a partenza ma è uscito noi stiamo cercando prove di export e quella è una validissima prova dell'export suona male questa difformità ma è quasi sempre una difformità riconducibile esclusivamente alla circostanza che non è stata mantenuta quella promessa data di uscire da una dogana dichiarata fin dalla partenza però noi cerchiamo prove di export è una valida prova dell'export la risposta è sicuramente sì ok la signora Cecilia invece sta scrivendo per qualsiasi rettifica di bolla doganale la dogana vuole bolla import del cliente che non è sempre facile avere adesso non so per qualsiasi rettifica mi suona male questa rettifica però sicuramente se stiamo parlando di chiusure alternative dell'export quindi se stiamo parlando di quella bolla doganale che non si è chiusa in maniera naturale col dialogo di partenza della dogana di uscita sono d'accordo con lo che scrive la dogana tende sempre a dirmi io ti posso chiudere d'ufficio l'MRN dandoti la prova dell'export ma voglio che tu mi dia certezze azienda che la merce a destino sia arrivata quindi bella la fattura che hai messo di export bello il documento internazionale di trasporto bello il pagamento dalle merci perché il cliente ti deve aver pagato ma voglio una bolletta di import davvero perché se tu mi dimostri che la merce è entrata a destino sarà pur uscita anche dal territorio della UE quindi è chiaro che purtroppo questo è un documento di stretta pertinenza del mio cliente che devo carpire nelle mani del cliente devo rompere le scatole del cliente sappiamo che rompere le scatole del cliente non è mai cosa buona e giusta a livello commerciale per cui evidentemente se ho un cliente collaborativo ne approfitto ma se il cliente collaborativo non è mi vado ad incartare e vado insomma a complicarmi oltremodo la vita però sì è una richiesta lesida è quella che fa la dogana sulle mancate naturali chiusure delle bolle dogana di ex quando l'MRN in attesa di vista uscire si protrae 90 giorni poi diventa operazione scaduta se l'operazione scaduta è la dogana ha titolo per chiedervi già informazione ha titolo per chiedervi dammi le prove alternative dimostra non è finita sta roba perché se tu esportatore non mi sapessi dimostrare che la merce è passata per me dogana non è esportato se per me dogana non è esportato io ti annullo la bolla doganale se ti annullo la bolla doganale sai che faccio io dogana lo comunico all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate sa in quel momento che tua azienda è in mano delle fatture non imponibili articolo 8 per le quali non sei in possesso dell'inora prova dell'export se questo è vero l'agenzia delle entrate mi può chiedere l'iva sanzionata 1-2 volte l'iva l'errata di cazzone l'errata di cazzone del plafond che potrebbe comportare uno splafonamento con sanzioni da 1-2 volte l'iva sullo splafonamento per questo vi dicevo ho più paura delle sanzioni iva in logica di export il Giuliana mi sta chiedendo una cosa un po' più particolare dice c'è una circolare di quest'anno dell'agenzia delle dogane che parla di tv quindi si ricollega probabilmente anche al corso della volta scorsa dove si dice che è un'azienda che chiedono i tv l'azienda quindi che abbia coinvolto l'agenzia delle dogane nel processo decisionale di un'attribuzione della voce doganale e una volta che la dogana si è espressa mi abbia rilasciato un certificato di attribuzione di un'itv io azienda titolare dell'informazione tariffare vincolante per spendere per utilizzare questa mia voce doganale blindata dal parere dell'agenzia delle dogane posso chiedere che sia anzi lo dice l'agenzia dice devi indicarlo nella casella 44 in maniera tale che la dogana leggendo la bolla doganale in casella 44 sappia che quella voce doganale inserita in casella 33 è una voce doganale già concordata con la dogana in maniera tale che possiamo discutere di tutto con la dogana su questa operazione ma non della voce doganale perché me l'hai detta tu dogana o correttamente la preoccupazione della giulia re non esiste un sistema sanzionatorio per mancata annotazione nella casella 44 no non esiste un sistema sanzionatorio per quanto la circolare stia dicendo se vuoi blindare se vuoi spendere utilizzare con la voce doganale in maniera che non sia discutibile con la dogana inseriscila fai in modo nel mandato nelle istruzioni che conferisce lo spedizioniere che venga regolarmente dichiarata in casella 44 soprattutto loganale non menziona il numero di tv nonostante avesse fatto esplice la richiesta che è esattamente l'opposto a quello che stavo dicendo io cosa si venga a comportare una revisione della voce doganale onestamente non lo chiederei per me è importante che la voce doganale sia stata indicata correttamente in casella 33 perché se è stata indicata correttamente rispecchia correttamente il prodotto non c'è motivo di discussione chiaro che se l'errore fosse un errore sull'errore mi sbaglia pure la voce doganale sarebbe un disastro che imporrebbe una revisione della bolla doganale quali potrebbero essere le ripercussioni in presenza di numerosi bolle doganali senza annotazione di tv ma secondo me nessuna se la voce doganale è stata inserita in maniera corretta mi permetto di dire assolutamente nessuna chiaro che a quel dichiarato doganale farei notare che nonostante le istruzioni nonostante tutto non ha adempiuto correttamente agli obblighi che c'erano tra le parti le prossime operazioni doganali ammesso in un concesso che si usi il solito dichiarato doganale mi aspetto che l'errore non venga più commesso se persistesse nell'errore forse non ho scelto miglior dichiarato doganale in circolazione potrei valutare di modificare i miei partner a livello di compilazione bolle doganale ora diciamo che dal punto di vista dell'operatività della bolle doganale quindi che riferimento sia tra un DAO e un DAE che cosa vi torna tra le mani aziendalmente il DAO o il DAE per me vi deve tornare il DAO il DAE non è a uso e consumo dell'azienda il DAO l'ha dichiarato doganale anche se qualcuno vi dirà ma non esiste più la bolle doganale telematica tutto quello che volete ma il DAO è l'ha dichiarato doganale la sua interezza la sua completezza con tutte le sue famose 54 caselle voi dovete poterla ricevere poterla leggere poterla consultare poterne verificare i contenuti e laddove trovate delle incongruenze delle imperfezioni poter chiedere la correzione spontanea ma certamente sì nel pieno diritto dell'azienda poter chiedere la correzione della bolla doganale attraverso quel processo che viene chiamato procedura più che processo revisione dell'accertamento della bolla doganale sì assolutamente avete tre anni di tempo i tre anni c'è la dogana per contestare voi ma voi avete altrettanto tre anni a calendario dal 29 aprile al 2023 se sono indietro fino al 30 aprile del 2023 22-21 per chiedere la correzione di tutte le bolle doganali che possono essere state messe con errori tutte le correzioni spontanee che potete porre in essere non producono sanzioni ne vale la pena c'è errore e c'è orrore per gli errori banali non sarei un purista che chiede ogni volta la revisione della bolle doganale per gli errori che diventano errori per le bolle doganali sbagliate brutalmente ma anche sì grazie procederei sicuramente con quella noiosissima procedura di revisione della bolle doganale sottolineo noiosissima perché a tempi lunghi quasi biblici diciamo che il peggio normalmente lo tocchiamo col fantastico mondo dei Corriere Espressi perché perché i Corriere Espressi sono notoriamente espressi sono veloci sanno fare il loro mestiere benissimo di spedizione brillantissima rapidissima sulle emissioni delle bolle doganali onestamente li vedo un po' meno entusiasmanti con margini di errore infinitamente superiori con una revisione che insomma può richiedere giusto ce lo diciamo da uno a due anni per correggere una bolle doganale diciamo che la cosa ci entusiasma davvero molto molto poco soprattutto se dovessi mettere mano a n bolle doganali nell'arco del triennio preso in considerazione però una revisione della bolle doganale verrà modificata pesantemente adesso con l'avvento la smaterializzazione della bolle doganale a settembre è stata pesantemente modificata nel mondo dell'import adesso dobbiamo vedere negli effetti speriamo positivi perché nella procedura di revisione della bolle doganale storicamente era il doganiere che andava materialmente a correggere quella bolla doganale su richiesta del doganalista rappresentante il doganale dell'azienda nel futuro cioè nel presente per l'import nel futuro prossimo dell'export sarà il dichiarante doganale stessa da portare le modifiche alla bolla doganale semplicemente comunicando allo spedizioniere che sta per creare una versione 2 la versione B della bolla doganale a suo tempo generata con dati errati signora Andrina mi sta scrivendo buongiorno abbiamo spedito materiale di Resexworks in Serbia quindi questo mi fa pensare che tutti i miei seminari in presenza fatti nel 27 anni di onorata carriera personale non si è serviti a nulla perché la Resexworks rimane la più amata degli italiani mi permetto di scherzare con signora Andrina abbiamo spedito materiale Exworks in Serbia con il corriere DPD che non mi ha inviato nessuna bolla doganale e partiamo molto bene perché il materiale è stato esportato dalla Repubblica Ceca alla quale so dire non fa dogana verso la Serbia ha fornito solo il POD firmato a destino può essere sufficiente no qui c'è qualcosa che non ha funzionato pesantemente in questa operazione non esiste ma non esiste proprio al mondo che la Repubblica Ceca non faccia dogana per la Serbia un paese comunitario Repubblica Ceca un paese extra comunitario Serbia non può esistere il caso che non venga fatto a dogana lo escludo categoricamente certamente questa Resexworks è stata un anello debole della procedura della signora Andrina che se trovate in balia di spedizionieri non scelti non pagati da loro che hanno deciso di impostare il traffico secondo loro logiche per noi forse illogiche però è chiaro che se gli è stato chiesto di mettere una fattura non imponibile articolotto ripartendo dal principio che vi avevo raccontato io ci deve essere sta bolla doganale ci deve essere per forza poi il rischio che ricadiate in quella dinamica che ha già sollevato la signora Barbara in precedenza che qui si faccia dogana in Repubblica Ceca che nasca un MRN della Repubblica Ceca che nonostante quindi il ritorno delle bolle doganale vi troviate in mano un MRN cieco che visitato sul portale dell'Unione Europea non vi confermi l'avvenuta corretta esportazione quindi questa è un'operazione che è nata probabilmente male impostata dal punto di vista doganale pericolosamente con l'operazione doganale di Repubblica Ceca che ci deve essere su questo sono perentorio dobbiamo chiedere pretendere ottenere che se ne venga data una copia con il rischio che quella copia poi non risulti insaustiva ai fini della prova dell'esportazione domanda che vedo ancora buonasera le dogane hanno dei tempi massimi da rispettare per le rettifiche doganali queste sono domande imbarazzanti che vengono fatte diciamo che in realtà una revisione di una bolla doganale potrebbe essere un'attività da minuti un'attività da poche decine di minuti l'agenzia dogane si giustifica mancanza del personale abbiamo difficoltà non ci manca non si assumono più personale siamo arretrato i tempi sono dilatati in maniera assolutamente spropositata diciamo che una revisione ha senso fatta nel triennio quindi se mi arriva a leggere una revisione di una bolla doganale di sei anni fa mi lascia il tempo che trova non mi serve più io sto rischiando una sanzione eventuale dal punto di vista doganale nel momento in cui c'è un'operazione doganale riconducibile all'ultimo triennio vi parlavo già dei Corriere Espresso che possono impiegare da uno o due anni e quindi la signora Simona sta scrivendo anche FedEx non consegna quasi mai le bolle doganali qui sta parlando di bolle doganali non di revisioni ora qui la signora Simona solleva un altro tema un altro tema di interesse generale per cui ringrazio per la domanda e ringrazio tutti coloro che stanno intervenendo anche perché come avete forse intuito la mia scaletta è liberissima oggi mi sento di spaziare su tutto il vostro mondo dell'export io non vi vedo voi probabilmente vedete me ma io non vedo nessuno quindi non so con chi sto parlando potrei parlare simili scherzi a parte è un computer vuoto potrebbe non essersi nessuno da ascoltarmi invece con le vostre domande mi rendo conto che qualcuno che mi segue c'è e mi può aiutare a capire se è un argomento di maggiore o minore interesse quindi le vostre domande mi aiutano davvero tantissimo allora posso dire alla signora Simona ma posso dirlo a tutti che i Corriere Espresso con una vecchissima circolare del 2011 ottennero a suo tempo una deroga tutta loro tutta riservata al fantastico mondo dei Corriere Espressi in forza dei quali riuscire ad ottenere il diritto come Corriere Espresso a non restituire più le bolle doganali è un diritto riconosciuto da una circolare di cui giustamente dal loro punto di vista i Corriere Espressi si avvalgono quindi quando si ha a che fare con i Corriere Espressi è davvero dura pretendere il ritorno di una bolla doganale perché loro si nascondono giustamente dal loro punto di vista dietro la circolare dice ma io non sono tenuto a darti la bolla doganale tanto la circolare io sono tenuto solamente a restituirti una copia un documento nel quale si vinca l'MRN abbinato alla tua Expor il valore dichiarato per l'ordine conto e sono già posto così il Corriere Espresso la circolare mi dice che posso limitarmi a questo lo fa FedEx lo fa qualunque altro Corriere Espresso quindi con i Corriere Espressi quella questo nostro tra le importanti webinar di oggi di lettura del Bolle doganali non ha nessun senso perché non potete leggere le Bolle doganali non lo restituiscono più se va bene vi danno un DAE che non è il DAO perché il DAE non serve a voi serve per accompagnare le merci da Bianconese vi ricordate a Ponte Chiasso alla Spezia è un documento uso e consumo dello spedizioniere non è un documento uso e consumo dell'azienda io dovevo chiedere e pretendere ottenere il DAO la Bolle doganale ma con i Corriere Espressi non ce la farete mai con i non Espressi con le spedizioni tradizionali invece sì io lì la voglio doganale la voglio davvero non mi accontento del DAE perché il DAE è un documento che discendendo dal DAO contiene solo alcuni elementi del DAO quindi alcuni campi non sarebbero più verificabili non sono più intellegibili invece voglio che quella dichiarazione il DAO di poterla vedere nella sua interezza voglio poter verificare se ogni istruzione che io ho conferito sia stata fedelmente rispettata che ciò che è stato dichiarato in dogana è stato fatto secondo le mie istruzioni visto che poi risponderò io portatore del contenuto di dichiarazione doganale allora questo è il presente eravamo a Bianconese generiamo un DAO flusso la dogana mi lasciano un DAE il camion parte arriva ai confini DAE alla mano viene letto il codice MRN viene sparato il messaggio di risultato di uscita e l'operazione si chiude brillantemente io azienda torno in possesso del DAO muovi dare anche il DAE e prendo anche il DAE ma solo il DAE no solo con i Corriere Espressi accetto che non mi restituiscano questo DAO perché con i Corriere Espressi è una battaglia morta c'è una battaglia persa scusate una non ce la farò mai loro hanno la circolare a loro favore mi dicono io sono tenuto a darti questi documenti quindi ringraziami che ti ho dato anche questi pochi documenti che ti ho già inviato allora siccome nel nostro scaletta primezzavano questi termini DAO DAE MRN io penso che non siate tutti nei neofiti ma se ci fosse anche un neofita spero di aver reso chiaro cosa sono il DAO e la bolla doganale il DAE il documento da comprensione di esportazioni l'MRN è il codice univoco che serve per tracciare l'export codice che dovete digitare sul portale dell'Unione Europea dell'Agenzia della dogana italiana che si divide tra MRN italiani e MRN europei molti hanno salvato il link sull'MRN italiano e non si ricordano che esiste l'MRN europeo provateci non dà soddisfazione ve lo dico subito non dà soddisfazione ma provateci qualche volta il finale me lo trovo è anche dell'MRN nato in un paese della UE e chiuso in un paese dell'Unione Europea diverso dal primo ma vi ho già detto voi siete nel pieno inconsapevolmente della rivoluzione doganale epocale imposta dal regolamento 952 del 2013 che fin dal 2013 va scritto che entro il 2023 l'Unione Europea avrebbe smaterializzato tutti i documenti doganali obiettivo del codice via la carta estinzione della carta se qualcuno è vecchiotto come me ed è sul campo da prima del 2010 a fare questo mestiere si ricorderà che fino al 2009 tutti i documenti doganali erano esclusivamente cartacei si inseguivano bolle doganali cartacee timbrate in originale sul retro col famigerato visto uscire timbro rotondo dell'agenzia doganale preistoria visto a distanza di 14-15 anni dopo oggi le bolle doganali sono tematiche domani sono XML a settembre parte la rivoluzione doganale finale le bolle doganali saranno tutte nasceranno tutti in un flusso XML inseguiremo dei documenti nel cassetto doganale questa rivoluzione è già partita dell'import e ne parleremo diffusamente anche dell'import ma a settembre coinvolgerà il mondo dell'export oggi data di riferimento 7 settembre dovrebbe partire in via definitiva la smaterializzazione delle bolle doganali di export quindi quello che sembrava un sogno almeno quando iniziate a fare questo lavoro dovrebbe diventare realtà voi dovreste poter individuare le vostre bolle doganali all'interno del cassetto doganale oggi già lo fate per l'import domani dovreste farlo per l'export il signor Giorgio tanto ci sta dando una sua esperienza con i corrieri dopo tante battaglie consegna la merce con il dogana fatto al cepi questo è veramente una grande conquista ci vuole tempo di aver visto uscita almeno abbiamo qualcosa in mano confermo che l'impostazione del signor Giorgio è pienamente condivisibile dovete però fare molte pressioni commerciali che venga pure il corriere scelta e pagato dall'acquirente ma deve far dogana dove dico io venditore deve cercare di vendere FCA di non vendere più Xworks di imporre di far dogana dove dico io non c'è posto migliore per l'azienda parmigiana di far dogana a Parma o forse addirittura in stabilimento facendo dogana in quello che viene chiamato essere il luogo approvato cos'è il luogo approvato? fare dogana a casa propria e nel mondo dell'export io ci vedo solo vantaggi fermo restando che non avete alcun obbligo di seguire il mio suggerimento fermo restando che liberi di fare come ritenete di andare ancora da far dogana in dogana ma far dogana in stabilimento vi permetterebbe di avere il controllo totale dell'opera in doganale il camion dovrebbe uscire con l'opera in doganale fatta da che dite voi come dite voi non ci vedo controindicazioni particolari quindi vi inviterei veramente a valutare quantomeno di fare dogana nei vostri stabilimenti ma io so che molte aziende che partentano qua oggi hanno già fatto questo grande passo e per cui direi vale sicuramente la pena di segnalare anche ad altri se qualcuno avesse esperienze negative lo invito ovviamente a segnalarlo ma credo che l'esperienza di fare dogana in stabilimento sia più positiva che altro però oggi che voi faccia il dogana a Bianconese faccia il dogana a Verona faccia il dogana a La Spezia faccia il dogana a Rotter ovunque voi faccia il dogana il principio è sempre stato quello porti la merce in una dogana e fai l'operazione doganale contestuale dove c'è la merce c'è la dichiarazione doganale principio imprescindibile se qualcuno si ricorda addirittura il famoso film Non ci resta che piangere ogni volta che facci la dogana dichiari un fiorino e vai è un film che ha tutt'altro genere ma è emblematico del momento doganale il coice doganale prevede una rivoluzione pazzesca dissociare merci e documenti arrivando a quello che sarà ma che in realtà in Germania stanno già provando a effettuare oggi lo sdoganamento centralizzato un mio cliente una delle 50 aziende più grosse del mondo mi ha già detto sto già cercando di scegliere la dogana europea su cui centralizzare tutte le operazioni doganali che la merce sia in Italia in Francia in Polonia o in Germania questo mio cliente sta dicendo sto privilegiando una dogana polacca ci stiamo già interfacciando con la dogana polacca per esploitare tutte le formalità di import di export in Polonia indipendentemente dal luogo dove risiedono effettivamente le merci con lo sdoganamento centralizzato servono di vantaggi clamorosi oggi io potrei farvi delle affermazioni curiose clamorose dogana che vai legge che trovi ha senso no che non ha senso il coesito canale è uguale per tutti però chi è sul campo sa sicuramente che c'è un'interpretazione umana c'è il singolo funzionario che interpreta a volte da Parma a Reggio Emilia 30 km scarsi di distanza una stessa operazione a Parma non battono ciglio a Reggio Emilia mi fanno delle storie e viceversa e questo è uno dei problemi delle aziende non avere spesso la stessa uniformità di giudizio e se invece avessi un'unica dogana di riferimento sia in import che in export mi rientra faccio con i soliti direttori con i soliti funzionari creiamo un modus operandi che replico su tutta l'Unione Europea potrebbe darmi dei grandissimi vantaggi e siamo vicini all'attuazione questa azienda sta già cercando profili operativi con la dogana polacca per partire perché si potrà partire a breve perché grazie alla smaterializzazione grazie al falso che ormai tutti questi documenti doganali sono dei file se anche la merce c'era in Olanda e per esempio un buon dogana in Polonia quando un dogana polacca olandese vuole informazione chiede a quella polacca e non clicca in tempo reale i documenti quindi i documenti si trasmetteranno in tempo reale da una dogana all'altra quindi diciamo che da questo punto di vista siamo mai vicini alla realtà ora senza dover per forza provare a arrivare allo sveglianamento centralizzato che rappresenta sicuramente un finale di storia interessante per qualche azienda la smaterializzazione dei documenti mi comporta comunque un grandissimo beneficio di riuscire a fare dogana dove io azienda ritengo più opportuno e più consono esplettare le formalità doganali quindi ci stiamo arrivando non manca molto in Italia da questo punto di vista c'è qualche resistenza in più in Germania stanno già dicendo alle aziende dateci le vostre istruzioni che vediamo se si possono già attuare le operatività ora io non so tra tutti i partecipanti siete tanti chi è già dentro o non dentro al cassetto doganale perché tutto il dialogo che voi avrete con l'agenzia delle dogane nel futuro avverrà dentro il cassetto doganale dentro quel portale dell'agenzia delle dogane quel PUDM quel portale unico delle dogane dei monopoli dove voi dovete entrare restarci tutta la vita io non so se qualcuno di voi mi risponde no io non ci sono ancora entrato io accetto che un'azienda italiana non sia ancora entrata nel portale dell'agenzia delle dogane solo se è un'azienda che fa solo export neanche per sbaglio faccia un import se siete un'azienda che fa anche import nel cassetto doganale dovete già essere entrati per restarci per sempre perché già dall'anno scorso le bolle dogane di import le dovete andare a scaricare nel portale dell'agenzia delle dogane da settembre anche le bolle dogane di export si scaricheranno dal portale dell'agenzia delle dogane quindi nel portale ci dovete essere entrati dovete aver imparato a usarlo dovete restarci tutta la vita a me sono un concesso che abbiate mai telefonato in dogana voi sapete quanto sia difficile trovare il dialogo con il doganiere di turno non sempre la dogane risponde al telefono ma nel futuro prossimo la dogane non risponderà neanche più al telefono tutti il dialogo che avrete con l'agenzia faranno domande e risposte dentro il portale dell'agenzia delle dogane quindi dentro quello che viene comunemente chiamato il cassetto doganale lì troverete tutto il vostro mondo siano bolle dogane di import oggi siano bolle dogane di export domani siano domande di tv siano domande di iscrizione al Rex siano tutte quelle che sono il dialogo con l'agenzia dogane potrà venire esclusivamente dentro il cassetto doganale quindi lì vi invito veramente chi ancora non avesse fatto il grande passo di accedervi di entrare non è anche perché non è intuitivo ve lo dico subito non so se qualcuno ha esperienze da voler raccontare ma c'è chi ha perso delle ore chi ha perso delle giornate a entrare nel cassetto doganale perché l'accesso è riservato alle gala rappresentante che deve accedere con il suo speed personale poi siccome le gala rappresentante in altre faccende ha facendato deve delegare qualche altro soggetto che accederà con il suo speed personale poi vi racconterò sull'import cosa è successo bisogna andare a cercare le bolle doganale uno a uno con l'MRN o conoscere la dogana di riferimento in export non sappiamo ancora bene cosa succederà però credo che il gioco sarà assolutamente similare a quello che ci ha accompagnato in impor almeno le prime informazioni che abbiamo raccolto ci imporranno sostanzialmente ancora una volta di andare a rincorrere dentro il cassetto doganale le nostre bolle doganali che sono state che verranno emesse da 7 settembre in avanti quindi attenzione perché è un gioco che sta per partire dobbiamo essere preparati come azienda dobbiamo essere preparati assolutamente sì perché se non sarete preparati domani farete fatica a saltarsi fuori con queste bolle doganali già oggi in import poi ce lo racconteremo con calma il portale è partito non ha funzionato come si pensava il sogno di tutti entro nel mio cassetto doganale con la mia verità io vedo tutto il mio mondo si è sciolto dopo tre secondi che siete entrati nel cassetto doganale perché nel cassetto doganale non vedete un bel niente dovete andare a cercare i documenti uno alla volta con il driver che sarà l'MRN poi ve lo racconterò meglio ovviamente più avanti forse è una domanda sciocca ma come facciamo a riconoscere un DAO non DAE sui documenti che ci ritorna non credo di averlo mai visto scritto in realtà c'è scritto innanzitutto un DAE sulla costa in verticale è scritto proprio o la sigla DAE o documento accompagnamento esportazione spesso è scritto per esteso documento accompagnamento esportazione sottintende DAE DAO è un documento amministrativo unico c'è scritto normalmente esemplare per l'esportatore caratterizzato nella parte in alto a sinistra dal numero 3 che è normalmente la copia riservata all'esportatore e è presente che un DAO è fatto di 54 caselle non necessariamente tutte compilate un DAE è fatto di molte meno caselle molte meno quindi secondo me con questi elementi distintivi dovreste riuscire a saltarci fuori poi se la Barbara è in difficoltà se lo dica che provo a darle dei riferimenti ulteriori ma se riesco vediamo forse qua un esemplare del DAO del DAE potrei averlo rapidamente a disposizione da mostrarvelo ovviamente quando cerco una cosa ho questa capacità straordinaria di non trovarla mai ora questo un DAE l'ho trovato rapidissimamente lo possiamo anche condividere condividi condividi questo condividi lo schermo allora questo è il DAE vedete è scritto di lato documento di accompagnamento delle esportazioni e non sono 54 caselle queste sono molte meno il DAO invece è contraddistinto da tutte le 54 caselle da dover eventualmente compilare spero di aver dato un'idea ecco in alcuni non c'è scritto nulla sul fianco non c'è scritto neanche perché nel bolle doganale qui invece in alto dovrebbe essere scritto tre tre qua un tre al centro che normalmente contrastingue la bolle doganale altrimenti rischiano di essere veramente semplicemente dei DAE dipende poi da quante caselle trova compilate al di là del fatto che a settembre cambierà tutto se una Luca mi scrive il cassetto canale non funziona molto bene confermo non è operativamente parlando smart confermo per esempio la ricerca dura solo tre giorni confermo ci saranno upgrade sì miglioramenti sì sono previsti dei miglioramenti sul cassetto canale la risposta è sicuramente sì Sogei sta cercando cioè l'agenzia dogane sta cercando un nuovo web service che in base al numero e ori della vostra partita IVA possa sicuramente fornire un dato più aggregato o meglio una ricerca più aggregata delle bollette oganali che oggi come scrive giustamente il signor Luca sono invece riservate a tre giorni in tre giorni per quel che riguarda l'import conoscendo peraltro la dogana verso la quale è stata emessa la bolla doganale senza quale se no non trovate assolutamente nulla nel cassetto doganale in export trovo tutte le bolle doganali o su quelle che hanno fatto dogana in uscita in Italia questa è una bella domanda qui oggi la risposta che devo dare a signor Molinari è purtroppo la più temuta solo quelle italiane io che io sappia almeno oggi sono previste nel cassetto doganale solo le bolle doganali contraddistinte da un MRN italiano in un futuro futurista forse vedremo anche quelle non italiane ma oggi non posso che confermare che è prevista solo la presenza delle bolle doganali caratterizzate dall'MRN con la sigla IT quindi chiaramente un MRN nato sul territorio italiano Simona stava scrivendo un po' di tempo fa una domanda molto specifica sulla comprensione della bolle doganale noi fatturiamo un allestimento per GPL ad un cliente extracomunitario e lo montiamo su un telaio che ci viene consegnato dal fornitore tedesco del telaio che lo fatturerà direttamente al nostro cliente finale in questo caso è corretto che noi che faremo la bolle doganale includiamo anche la fattura del fornitore tedesco anche se non è intestata direttamente a noi ma io normalmente in questi casi preferirei una bolle doganale congiunta con due esportatori con due soggetti esportatori l'azienda Sena Brabilla e quella del tedesco ognuno con la rispettiva quota di fatturazione entrambi o con bolla cointestata o intestata a un soggetto che può essere ovviamente l'azienda Sena Brabilla con citazioni in casale 44 del eventuale fornitore tedesco per la sua quota parte in questo caso del telaio c'è una domanda ancora più vecchia Sena Maria Cristina con l'origine abbiamo luogo approvato dove facciamo dogana export con la stessa autorizzazione abbiamo deposito IVA potrebbe chiarire se in deposito IVA può entrare merci in articolo 50 destinata solo a export extra way questa è una domanda molto tecnica onestamente preferisco avvalermi della facoltà di non rispondere dovrei riguardare per serenità mia e dell'azienda che ha fatto la richiesta perché nel deposito IVA sicuramente possiamo introdurre merci vendute a clienti italiani e UE dei grossi dubbi che possa essere introdotta a deposito IVA perché deposito IVA è una merce destinata solo a esportazione per extra UE se dovessi dare una risposta di getto direi no però preferirei andare a rivedere il tutto per evitare gaffo e clamorose la signora Marianna sul cassetto canale sarà possibile trovare anche le bolle del canale precedenti settembre 2023 ovviamente no sarà già buono se troveremo quelle perché se parte il cassetto canale come partito quello dell'import non troveremo neanche quello del settembre perché chi ha già giocato sul cassetto canale ha avuto delle delusioni clamorose il cassetto canale è partito il 9 giugno non si vedeva più o meno niente è iniziato a funzionare il 30 novembre quindi diciamo che se funzionerà con le siste tempistiche settembre forse partiremo dicembre forse qualcosa vedremo giorno più giorno meno l'MRN invece nel DAO è quel numero sotto al codice barri in alto a destra giusto? assolutamente sì posso confermare che il codice MRN è un codice alfanumerico di 18 cifre caratterizzato dalla terza la quarta cifra col paese emittente IT Italia SI di Slovenia di Germania dicendo e normalmente si trova proprio collocato nella parte in alto a destra sotto forma di codice a barre ma con il numero del codice alfanumerico che contraddistingue appunto in maniera univoca quella bolla doganale un MRN è una bolla doganale assolutamente sì quindi ultima cosa poi credo che valga la pena magari di abbandonarci anche a una pausa perché ovviamente mi state ad ascoltare da un'ora e mezza con un ritmo piuttosto incensante perché uno dei miei difetti è sicuramente il ritmo piuttosto alto con cui espongo le varie questioni l'ultima cosa mi sentivo di dire sulle triangolazioni all'export nel senso che triangolazione all'export vuol dire due soggetti comunitari per me e un extra comunitario in parte è già emerso però vi dico che la posizione scomoda quella veramente più pericolosa è l'essere il primo anello di quelle esportazioni cosiddette a catena perché l'Unione Europea le triangolazioni le parla operazioni le definisce operazioni a catena l'essere del primo anello della catena è la posizione più scomoda nella misura in cui non conoscete neanche appena l'operazione non conoscete neanche il destinatario siete in balia di soggetti che non conoscete nella loro interezza per cui diciamo che normalmente nella triangolazione si tende ad intestare la bolla del canale dal promotore della triangolazione soggetto intermedio il quale alla fine della triangolazione si trova in possesso di una bolla del canale o intestata un'MRN che gli torna regolarmente e la sua operazione si chiude al pari di quella che potrebbe essere un export normale diretta la definirei mentre il primo anello della catena a cui viene chiesto di fattura non riponere il clotto o torna in possesso di quella coppia della bolla del canale di cui titolare Italia 2 il suo cliente italiano o il dia di turno cliente comunitario nei confronti dei quali ha messo fattura di vendita o deve chiedere pretendere ottenere che la sua fattura venga avvistata in dogana timbrata in dogana quindi le prove di export a carico di Italia 1 primo venditore di una triangolazione sono o tornare in possesso di una bolla doganale o di cui titolare l'altro studio italiano da cui si evinca che in casella 44 è stata compilata correttamente citata la fattura Italia 1 oppure chiedere che la fattura venga timbrata in dogana con tutte le difficoltà di chiedere un timbro il famoso timbro con albi timbro rotondo che venga posto sulla fattura di prima vendita ma se le cose si fanno bene funziona bene se vanno male funziona molto male e quindi direi è un'operazione ad altissimo rischio per Italia 1 per il primo soggetto che facente parte della triangolazione quindi vi dico facciamo le triangolazioni sì facciamole con cura impostiamo bene i mandati scegliamo bene i dichiaranti doganari evitiamo le triangolazioni con i corri espressi ve lo dico io mi assumo la responsabilità perché i corri espressi fanno molta molta fatica a gestire le triangolazioni a meno che non abbiano un servizio dedicato al mondo dei triangolari fanno molta molta fatica a gestire le triangolazioni perché si incartano che è un piacere dal punto di questi documenti dovrebbero sostituire i documenti tra primo e secondo venditore e non sono sempre in grado di farlo correttamente quindi io direi se siete d'accordo farei una pausa ristoratrice un po' per tutti quindi se avete necessità di prendere un caffè avete sicuramente la possibilità di recuperare le forze con il caffè se vorrete ritornare io ovviamente tornerò sicuramente e diciamo che normalmente facciamo dieci minuti abbondanti per cui sono al mio orologio alle 4 e 5 direi ci rivediamo intorno alle 4 facciamo però per essersi 4 e 20 ma ci siamo davvero se è nutre che dica 4 e 15 poi arrivo lungo siamo 4 e 20 ma ci siamo ok quindi io di fatto direi ci fermiamo un attimo e 4 e 20 io riprendo chi c'è c'è la trattazione ok allora disattivo audio e video ma rimango ovviamente collegato immagino che chi vorrà proseguire farà altrettanto ci rivediamo tra 15 minuti buon caffè a tutti grazie 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 eccomi io ci sono scusate per il lievissimo ritardo ma sempre difficilissimo centrare il minuto della ripresa dei lavori adesso non abbiamo nessun modo di accertare se siete tutti presenti o meno diamo per scontato che siete tutti collegati perché l'orario preventivato è stato ampiamente raggiunto vedo che c'è qualche domanda già pronta calda in chat così diamo modo a chi fosse arrivato a lungo di raggiungerci sono Giuseppe scrive sono riuscito ad avere la coppia della bolla doganale svizzera del mio corriere con grande fatica è sufficiente come prova della nota esportazione o quale altre prove devo fornire beh se ha fatto un'esportazione svizzera e ha una bolla doganale ovviamente con quella bolla doganale avrà l'MRN MRN alla mano dovrà poi andare sul portale dell'agente del dogane verificare la corretta chiusura dell'MRN oggi deve fare così se è un'export diretta non ci sono alternative se non operare in questi termini poi a settembre vedremo come ci faranno recuperare le bolle doganali però oggi lei deve come ha fatto perseguitare lo spedizioniere affinché le dia una copia di quella bolla doganale rilevare il codice MRN MRN alla mano andare poi sul portale dell'agenzia del dogane per verificarne effettivamente i contenuti ora è quello che doveva essere questa seconda parte della nostra chiacchierata all'irà di dare anche un risvolto al lato import perché se l'ho detto bolla doganale in senso ampio import export che sia abbiamo parlato molto di export pochissimo di import io faccio qualche riflessione sull'import per poi ritornare a fare riflessioni che accomunano il mondo dell'import export allora dal punto di vista dell'import vi ho già detto che invece la rivoluzione è già partita la produzione è già in atto dal 9 giugno 2022 le bolle doganali si sono smaterializzate in import parliamo già di XML anche se in realtà poi voi vi trovate delle mani sempre dei gran PDF perché? Perché dal 30 novembre scorso il cassetto doganale è realtà in import ogni bolla doganale di import ve l'andate a cercare nel cassetto doganale accedendovi con lo speed del legale rappresentante speed del legale rappresentante alla mano se il legale rappresentante ogni volta che accedete per cercare una bolla doganale vi autorizza questo speed entrate altrimenti lui può delegare un soggetto esterno se è un soggetto o un altro soggetto un soggetto che può essere responsabile amministrativo chiunque abbia vinto il premio aziendale chiunque sarà il prescelto nel cassetto doganale si muoverà scaricherà le bolle doganali che in una logica di import sono dei gran PDF che troverete nel cassetto doganale offerte speciali dell'agenzia delle dogane tre al prezzo di uno una bolla doganale di import che ieri era un PDF trasmesso dallo spedizioniere oggi sono tre PDF tre PDF scaricati dal cassetto doganale che sono con versioni ufficiali di file XML di fatto è la dogana che garantisce che quel PDF che vi scaricate al cassetto doganale è fedele copia dell'XML perché la copia che vi dà lo spedizioniere rischia di essere una copia di cortesia una banale copia di cortesia come avviene nel mondo delle fatturazioni elettroniche me le possono anche mandare le fatture di cortesia io le guardo non sono documenti fiscalmente validi i documenti fiscalmente validi sono quelli che trovo nel cassetto fiscale per le fatture e nel cassetto doganale per le bolle doganali quindi dovete andarvele a scaricare i PDF sono PDF è vero ma copie fedeli dell'XML è la dogana che me l'ha convertiti da XML in PDF e quindi non ho nessun motivo di dubitarne della bontà e se anche fossero sbagliate colpa della dogana non è colpa mia se invece io registro la bolla doganale di cortesia import registro con tutti i rischi del caso un documento che potrebbe rivelarsi copia fedele della bolla doganale che risiede nel cassetto doganale ma potrebbe rivelarsi copia non fedele se copia non fedele è colpa mia di importatore che mi sono sbagliato a fidarmi di quel dichiarante doganale di quello spedizioniere che non mi ha dato una copia fedele ora ovviamente mi aspetto che al 99,9% i documenti che mi arrivano dagli spedizionieri siano copie fedeli del cassetto doganale però il rischio lo sto prendendo solo io come importatore oggi e domani esportatore a non aver avuto accesso al cassetto doganale per andare a procurarmi i documenti originali fedeli quindi ci sarà una domanda alla signora Roberta sul cassetto doganale in merito al cassetto doganale noi facciamo solo export quindi non facendo import non sono mai entrati nel cassetto doganale esiste una circolare per capire come attivarlo? ora vi dico sì, oggi dell'export ovviamente non c'è ancora quella dell'import la circolare 22 del 6 giugno del 2022 la circolare che ha portato l'avvento al cassetto doganale import lì qualche spunto lo trovate ve lo dico subito non esaustivo non esaustivo perché sì, mi racconta tutto come il funzionamento del cassetto doganale mi centra nel portale dell'agenzia ma insomma non voglio dare falsa illusione a signora Roberta potete avere delle difficoltà quello che si può forse trovare in rete ma se non lo troverete in rete magari ve lo facciamo avere noi è una micro procedura scritta da Confindustria a livello nazionale che invece qualche passaggio in più visivo ve lo dà entrate qui, clicca qui, clicca là vi dà tutta una serie di coordinate che vi permettono di accedere meglio al cassetto doganale se vi riuscendo a muovervi all'interno del cassetto doganale questa micro procedura aiuta aiuta tanto, ve lo assicuro non è risolutiva in molti casi in molti casi a seconda della complessità della vostra azienda legal rappresentante, procuratori e quant'altro ci si può perdere facilmente nella fase delle deleghe ci si incarta facilmente nella parte delle deleghe però da questo punto di vista potrei suggerirvi se mai ne aveste bisogno ma questa è un'opzione ovviamente opzionale solo perché se fosse in grande difficoltà aziende senza un softwareista all'interno dell'azienda sono in grande difficoltà l'accesso al cassetto doganale aziende con i vostri softwareisti probabilmente diventa una passeggiata ma se foste in grande difficoltà ne possiamo aiutarvi con un collegamento via web di un'oretta con un esperto del cassetto doganale che chiede di essere attribuito solo per la sua oretta che vi dedicherà e vi accompagna passo passo all'accesso al cassetto doganale proprio in via web clicca qui, clicca di là delega qui, delega di là in un'ora avete risolto tutti i vostri problemi di accesso per sempre perché voi nel cassetto ci entrate e non ci uscite più non dovete uscirci più da quel cassetto doganale assolutamente poi vi anticipo che siamo anche in grado di eventualmente parlarvi di un software che per l'autorazione nello scarico delle bolle doganali il sogno di molti un piccolo tool in realtà niente di sconvolgente che costa pochissime centinaia di euro che vi permetterà di avere l'accesso al cassetto doganale automatizzato con un loggandovi una volta sola senza dover digitare tutte le volte lo speed del delegato e andare a cercarvi tutte le bolle doganali oggi di import perché sono solo quelle di import e domani anche quelle di export uno strumentino che non risolve i problemi per carità ma che può davvero diventare utile nell'operatività quotidiana quindi non lo dico solo a signora Roberta ma lo dico a tutti se doveste aver bisogno insomma possiamo darvi supporto anche da quel punto di vista certo che chi ancora come mi sto immaginando signora Roberta che fa solo export non è ancora entrata nel cassetto canale deve iniziare a muovere settembre e domani agosto non lo contiamo più o meno perché è un mese come sappiamo un po' particolare lavorativamente parlando dovete iniziare a prendere confidenza col cassetto canale dovete iniziare a entrare in questo portale capire dove risiedere i documenti andare a cercare oggi c'è solo l'import domani si dividerà in import export dovremo iniziare a muoverci in maniera agevole altrimenti rischiate a brevissima di incartarvi e non uscirne più oggi nell'import il cassetto è realtà oggi nell'import una bolla doganale di import diventato una copia ai fini contabili quindi un documento da scaricare solo per fare la realizzazione fini IVA solo per da scarico a quell'IVA versata in dogana un documento di sintesi della bolla doganale che vi permette di capire tutta la dichiarazione che è stata resa per vostro ordine conto in dogana se è stata resa correttamente quindi andare a verificare il contenuto la bontà di quella dichiarazione doganale che avete che qualcuno ha reso per vostro ordine conto in dogana un codice di svincolo un documento solo per rendersi conto se la merce è stata regolarmente svincolata alla dogana cosa significa che una merce è stata svincolata non ha subito controlli svincolo immediato ha subito i controlli l'ha superato brillantemente svincolata quindi il codice di svincolo è una logica gerarchica a me se non concesso che abbia senso parlare di gerarchia di documenti è la meno importante perché se la bolla doganale c'è vuol dire che comunque è stata svincolata segnalo questa ipotesi di gerarchia di documenti perché alcuni ancora oggi mi dicono ecco il svincolo non lo vedo non lo trovo è il male minore se non trovate il documento ai fini contabili è il male maggiore e dal 9 giugno scorso 2022 al 30 novembre 2022 moltissime bolle doganali nonostante il cassetto doganale fosse già attivo non si trovavano tant'è vero che l'agenzia delle dogane in data luglio scrisse ammettiamo che qualcosa non sta funzionando diciamo che aggrappatevi al documento di sintesi della bolla doganale perché il documento contabile non emerge non sappiamo spiegarci neanche noi perché non emerga l'agenzia delle entrate stesse scrisse a ruota eh sì dovreste registrare il documento ai fini contabili siccome non lo trovate fate quel che potete sulla base di quel che trovate sul portale dell'agenzia delle dogane insomma situazioni un po' limite situazioni un po' italiana oserei dire situazioni di un portale che era partito nella massimo slogan della nostra agenzia delle dogane armiamoci e partite voi aziende poi ci direte che non funziona niente e lo metteremo a posto non so cosa succederà nell'export sono stati già avviati i test per lato export anche qui vi dico perplessità clamorose ce l'abbiamo io che non sono nessuno però faccio parte dell'ordine nazionale dei doganalisti italiani faccio parte di una commissione IVA sono vicepresidente della commissione IVA dell'ordine dei doganalisti italiani abbiamo chiesto ufficialmente all'agenzia delle dogane perché non ci state ad ascoltare perché non ci chiedete un parere prima di partire col nuovo portale perché non ci chiedete cosa si aspettano le aziende da voi cosa si aspettano di trovare in questo portale perché non evitiamo quella pantomima dell'import in cui avete fatto un sistema che se ci aveste chiesto un parere l'avremmo fatto sicuramente in maniera diversa e l'agenzia delle entrate delle dogane per la prima volta ha detto quasi quasi questa volta vi ascoltiamo però siamo al quasi quasi non ci ha ascoltato nessuno quindi non so dirvi se ci sarà veramente un dialogo tra ordine nazionale dei doganalisti italiani e l'agenzia io lo auspico perché chi è operativo sul campo chi vive alla realtà delle aziende può portare le perplessità delle aziende può portare le aspettative delle aziende in import hanno fatto un sistema senza interloquire con nessuno ce l'hanno servito sul piatto d'argento e così punto piaccia non piaccia non possiamo farci più nulla io ho delle grosse perplessità sull'explo sulle triangolazioni cosa apparirà cosa non apparirà lo vedremo lo scopriremo solo vivendo oggi come oggi però motivi di segretezza commerciale insomma sta per partire un mondo che è decisamente molto 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 complesso lo vedremo comunque ribadisco il concetto nel caso di canale entrateci con tutte le fatiche del mondo entrateci subito restateci imparate a muovervi oggi import domani import più export e dopo domani sarà tutto 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 il dialogo delle dogane passerà da lì dentro prendete confidenza se volete vi diamo tutti gli strumenti che volete dalla procedura al tecnico al software abbiamo tutte le possibilità per rendervi il passaggio meno doloroso possibile però un po' di sofferenza purtroppo fa messa in conto perché ogni rivoluzione fa dei morti e qualcuno purtroppo in questa rivoluzione fa la fatica a tenere il passo ma ci può fare non è poi così brutto come lo sto forse descrivendo dal punto di vista della nostra chiacchierata di oggi la nostra idea era quella di dire no ma allora sta bolla doganale a fatica è stata emessa il certo punto la troverò nel cassetto doganale sia essa di import sia essa di export la devo controllare sì sempre e comunque io vi dico che nel manuale del perfetto importatore barra esportatore io chiederei addirittura sempre al mio dichiarante doganale di fiducia e questo lo posso fare solo con i dichiaranti doganali di fiducia di avere la prebolla doganale cosa intendo per prebolla doganale una sorta di bozza della bolla doganale per me questa è la schema vincente quando devo far dogana se ammesso in un concesso che aveva preso il controllo dell'operazione doganale in import penso lo facciate sempre in export spero sempre ma chi vende exworks non è vero che lo faccia sempre prendo il controllo dell'operazione doganale cosa significa significa che si va a far dogana dove dico io allora se andiamo a far dogana dove dico io allora diciamo che dico di canale questa è la fattura questo pack in list questi documenti che io ho prodotto ti do il mandato ti do le istruzioni tu compila la stavola doganale prima di lanciare l'xml in dogana fammi vedere una copia fammi vedere come l'hai compilata la bolla doganale perché se io riesco a vederla la stavola doganale riesco a comprendere nei contenuti se trovassi un'anomalia trovassi un errore ma te lo faccio corredere subito non c'è bisogno di una revisione della bolla doganale non l'hai ancora neanche inviata con la bolla doganale però riuscire a prendere visione di una pre-bolla doganale permette di evitare di avere poi bisogno di rettificare la bolla doganale perché qualcuno già parlava di revisione di bolla doganale si parlava già di tempi biblici di revisione di bolle doganali considerate che in import una revisione della bolla doganale oggi la fa già il di creante doganale è già operativa la nuova versione ieri io trovavo un errore dicevo lo spedizioniere c'è un errore lo spedizioniere ci va al doganalista c'è un errore lo doganalista ci va alla dogana c'è un errore la dogana interveniva con grande entusiasmo per rettificare la bolla doganale rettificata su base spontanea oggi c'è un errore in import lo dico lo spedizioniere che lo dice il di creante doganale il di creante doganale comunica la dogana sto correggendo la bolla doganale ti lascio in pasto dogana la versione A la versione B così tu vedi che variazioni ho effettuato ma se è fatta spontaneamente non c'è sanzione per quella revisione della bolla doganale tre anni di tempo a calendario per chiedere revisioni spontanee tre anni di tempo per la dogana per contestarmi per essere in doganali sbagliate che non ho provveduto a correggere spontaneamente il diciamo che adesso la signora Cristina mi stai dicendo come fare avere riferimenti del tecnico e software potete contattarmi direttamente se doveste aver bisogno vi metto in contatto io personalmente anche se il softwareista è una persona esterna al mio studio è una persona di grande disponibilità e ha già accompagnato minimo 50 aziende per cui vi dico sono sicuro che otterrete il risultato sperato la signora Barbara invece mi stava chiedendo in presidenza export Albania macchinario usato di cui non ho la possibilità di avere il paese di origine nemmeno l'origine preferenziale obbligatorio indicare il paese di origine si può omettere quindi non indicare ma sull'origine preferenziale non c'è dubbio alcuno che potete non indicare il dato nel senso che l'origine preferenziale di cui abbiamo diffusamente parlato al primo incontro per chi era presente è un'opzione quindi per chi era presente una volta il primo incontro che abbiamo effettuato il 7 giugno quindi ormai un mesetto fa si era detto l'origine preferenziale è un'opportunità che mi viene concessa quindi la possibilità di non far pagardarsi a quel cliente importatore estero facoltà a cui posso sempre rinunciare nella misura in cui non ho le evidenze dei dati che sto raccontando il made in origine non preferenziale che dir si voglia paese che vai legge che trovi sono paesi che lo pretendono paesi che non lo richiedono ai fini della bolla di export è un dato sicuramente non obbligatorio ma dovremmo andare a studiare paesi di destino se ci pretende un'informazione di questo tipo da dove fosse pretesa perché non credo che sia il caso l'Albania ma ad esempio in alcuni paesi arabi Arabia Saudita Kuwait Oman Iraq paesi di questo tipo senza made in non entro allora lì è un must l'inglese devi non è che puoi devi o dichiari o te restai a casa tua in Albania secondo me dovresti riuscire ad entrare anche senza una puntuale indicazione di origine delle nostre merci ma allora se torniamo alla nostra bolla doganale se è stata di import se è stata di export al di là che l'ho scaricata nella cassetta doganale al di là che me l'ha comunicata lo spedizioniere al di là che io sia in possesso di questa bolla doganale è chiaro devo verificarne i contenuti ma allora dove concentro il focus dov'è l'attenzione aziendalmente parlando per verificare la bontà di quella bolla doganale una volta che l'ho scaricata la tengo buona sono così contento di averla ricevuta come succede in Expo sono talmente contento che ho ricevuto la bolla doganale che l'archivio punto e basta o vado a verificarne nei contenuti andiamo a verificarne nei contenuti quali sono i contenuti su cui è giusto puntare un focus quali sono i contenuti sui quali è giusto se trovasse un errore magari valutare seriamente anche una revisione della bolla doganale dicevo c'è errore barra orrore se mi sbagli montare operazioni in euro di una virgola chi se ne frega direi quello è un errore assolutamente tollerabile se l'errore è impattante molto più rilevante beh allora aspetta forse una revisioncina della dichiarazione doganale serve qual è il limite di tolleranza diciamo che in import l'articolo 303 del TULD testo unico delle leggi doganali che la normativa sanzionatoria import stabilisce che per differenze entro il 5% non sono previste sanzioni e allora tutto sommato potrei anche ragionarla in questi termini se le differenze sono entro il 5% non c'è sanzione che a mio carico potrei anche evitare di fare una revisione della bolla doganale se invece le differenze fossero superiori la revisione potrebbe diventare veramente un qualcosa di necessario o quasi indispensabile questo tanto lo applicherei anche se la normativa parla apertamente di import lo valuterei come punto di riferimento anche in export dove nascono gli errori sulla colonna a montare delle operazioni in euro la famosa casella 22 della bolla dogana di export una fonte inesauribile di errori della casella 22 sono le eventuali fatture di acconto perché quando un'azienda mette una fattura di acconto mette la fattura non imponibile articolotto non parte merce non c'è bolla doganale quando faccio il saldo inevitabilmente sono costretto a mettere la fattura di saldo 100 meno 10 di racconto totale a debito 90 in bolla doganale 100 però ma lì carattere doganale per sua costitudine tende a cercare il totale documento legge 90 riporta in bolla 90 perché il dichiarato doganale dovrebbe ma non ha sempre tempo e voglia di leggersi tutta la fattura nella sua totale nella descrizione totale cerca totale a debito 90 bolla doganale 90 i 10 persi in bolla doganale ci va 100 quindi io suggerirei ad esempio per chi ama a mettere il fattura di acconto perché non solo lo ama ma è un'operatività della propria azienda scrive totale merce 100 meno 10 a conto totale a debito 90 totale finito canale 100 riportarlo in fondo perché il colpo d'occhio del dichiarato doganale cerca il totale del documento per definizione allora richiamerei lì l'attenzione di quel dichiarato doganale dicendogli guarda che c'era la fattura di acconto per cui il valore complessivo della merce è un valore di 100 non è un valore di semplici 90 ma poi ci sono errori banali di citazione vuole scrivere 100 ho scritto 1000 è scappato uno zero di troppo eh sì non è un errore banale però errore sia errore è da correggere a questo punto perché per noi è tanto importante la colonna montare operazioni in euro lato export perché si era detto che tutto quello che io fatturo non imponi verticalo 8 deve avere un ritorno sulla bolla doganale perché se la fattura non imponibile articolato di mille bolla doganale di mille deve essere non metto differenze di valori perché sul differenziale potrebbero dirmi che non sta in piedi la non imponibilità IVA lato import peggio che andare di notte lato import un errato costruzione della casella moneta importo fatturato va a fallare va a minare quello che è la base imponibile su cui dovremo andare a calcolare i diritti doganali perché noi in import paghiamo dazi ad valore paghiamo dazi che sono una percentuale su un valore qual è il valore di riferimento il valore di transazione il valore normale dei beni il valore che trovi in fattura il valore chief delle merci il valore della merce più trasporto più assicurazione su questo valore deve essere applicata una liquida taziaria quale liquida taziaria vai ad applicare una liquida che sarà lo zero un due tre quattro cinque quaranta cinquanta per cento in caso di dazi anti-dumping che la cui percentuale sarà funzione dell'origine delle merci e della voce dogana delle merci ma questa percentuale si applica su una base imponibile il valore in dogana non si può sbagliare non si può sbagliare sottolineo ancora non si può sbagliare perché se voi sbagliate a costruire il valore qualunque percentuale voi applichiate è fallata io vi lo dico ma il record della vita è un'azienda modenese che abbiamo salvato in un contenzioso doganale che con la sua banale operazione di import e il banale lo metto con le dovute varie virgolette si è trovata con un contenzioso in dogana che l'ha portata ad avere 72 non 7 72 capi di imputazione penale per una banale import in cui l'azienda si è prestata a un giochino sbagliatissimo concettualmente da parte del fornitore cinese che nell'intendimento di evadere dei dazi anti-dumping ha suggerito all'azienda facciamo una sottofatturazione diciamo che se un prodotto lo vendo a 10 normalmente a 10 io in dogana dichiaro 6 tu mi paghi 10 ti faccio due fatture distinte una 6 per le merci una 4 per la prestazione di servizi in totale 10 mi paghi 10 ma in dogana passiamo con 6 anche lo dogana si è accorta e ha chiesto all'importatore di supportare il perché con la merce oggi vale 6 quando ieri valeva 10 perché la stessa merce lo dogana si è accorta che stavano importando mesi prima e guarda caso quando era valito condizioni anti-dumping e nell'intendimento di supportare l'insostenibile l'imprenditore inizia da produrre contratti fatture dichiarazioni il credito ha considerato tutti falsi da lì 72 capi di imputazione penale con perquisizione anche dell'appartamento dell'imprenditore che mi raccontava con un imprenditore in cui ormai ho molta confidenza ormai sono anni che siamo in difesa d'ufficio di questo imprenditore che la mattina si è svegliato alle 7 della mattina aperto le finestre trovato i doganieri schierati davanti alla porta c'è questi chi sono cosa vogliono si è preso tutta la paura pensava fosse una rapina e ha detto no se aveva un mandato di perquisizione un appartamento perché cercavano come l'imprenditore si era costruito i contratti con i cinesi convinti che se li fosse scritti da solo in casa casi estremi di cui non voglio neanche parlarvi più di tanto allora diciamo che il valore non si può sbagliare certamente il valore ma io so che il valore lo guardate parto da lì ma sono assolutamente convinto che quella sia la casella più attenzionata dalle aziende italiane sia in export sia in import non c'è dubbio alcuno da questo punto di vista però la casella in export dell'esportatore il mio nome il mio essere del nevo simore SRL not esportatore italiano a volte viene storpiato mi devo preoccupare ma no quello che non deve essere storpiato quello che non deve essere modificato è la partita IVA o codice ori che dir si voglia che cos'è il codice ori il codice ori è l'iscrizione nella banca dati ori nessuna azienda italiana può intestarsi i bolli doganali se non previ la iscrizione alla banca dati ori che cos'è quindi questa banca dati ori è la banca dati gestita dall'Unione Europea nella quale vengono inserite i nominativi delle aziende che avranno manifestato la volontà di intestarsi i bolli doganali ssd impo ssd export un prerequisito senza iscrizione alla banca dati ori voi non vi intestate le bolle doganali in Italia hanno semplificato la vita la banca dati ori altro non è che la partita IVA della vostra azienda con anteposta la sigla IT previa però iscrizioni nella banca dati dell'Unione Europea nelle quali siano inseriti i vostri nominativi se non avete iscrizione alla banca dati ori non c'è bolle doganali che tenga non può essere intestata alcuna bolle doganali in export se ho una fattura con valore vendita e un valore solo i fini doganali per merce gratuita inclusa nella stessa fattura al campo 22 inserisco il valore della merce venduta il valore della merce gratuita è necessario inserirlo in bolle doganali se si in casella ok allora se la barba sta dicendo che ha una fattura mista fatta di merce venduta e merce invece che viene spedita a titolo gratuito quella a merce a titolo gratuito deve formare oggetto di crescente doganali assolutamente sì per quanto la merce a titolo gratuito non preveda il pagamento di un corrispettivo in bolle doganali deve essere citata poi ci sono varie metodologie di compilazione della bolle doganali c'è chi inserisce tutto in casella 22 c'è chi inserisce solo l'importo perché la casella 22 è stata moneta e importo fatturato io quella merce gratuita non te la sto fatturando in casella 22 ti metto solo il valore della merce per il quale prevedo il pagamento di un corrispettivo e quel valore invece lo lascerei della merce gratuita comunque in bolle doganali da casella 44 ma in ogni caso a comporre il valore statistico dei beni perché statisticamente la merce che passa in dogana è sicuramente data dalla sommatoria della merce venduta più la merce data a titolo gratuito quindi sicuramente sono valori di cui si deve assolutamente comunque tener conto nella bolle doganale non avrei dubbi alcuno da questo punto di vista quindi vi dicevo nella nostra bolle doganale il nostro essere esportatori sì mi puoi storpiare del nevo SRL del nevo SPA del nevo SNC chi se ne frega ma la mia parita IVA il mio codice ORI non me lo puoi storpiare perché se mi storpi quello la bolle doganale non è più mia ho un grosso problema non la troverò più nel cassetto doganale quindi quello è proprio il dato nelutabile il dato imprescindibile che per nessun motivo al mondo possa essere errato o insomma in qualche modo storpiato il cliente di destino fino a pochi anni fa non era neanche obbligatorio quindi mettere il campo del destinatario io suggerisco ovviamente di chiederne sempre la corretta indicazione però a me alla fine se mi storpi anche il cliente di destino a me la bolle doganale fondamentalmente serve per dimostrare se ho esportato o non esportato se la merce è uscita o non è uscita un nome al posto dell'altro mi disturba fino a un certo punto allora un elemento che invece noto essere poco poco monitorato ma che invece merita di essere monitorato soprattutto lato import ma il suo perché anche lato export la casella 20 la casella del link guardate che link in dogana non è innocuo ma sai con link io lo uso per ripartire costi e rischi di una spedizione internazionale vero link ha questa funzione link predisposto alla camera di commercio internazionale di Parigi serve per ripartire costi e rischi di una spedizione internazionale ma serve anche quindi nella ripartizione dei costi a capire chi espleta le formate doganali chi si fa carico del costo bolle doganali va bene ma non è questo il focus su cui volevo attirare la vostra attenzione link casella 20 della bolle doganali di export è comunque presente anche nella bolle doganali di import scusate sulla bolle doganali di import non sono ancora troppo dentro i numeri delle nuove caselle era una volta anche lì nella vecchia bolle doganali di import contraddistingueva la casella 20 link può influenzare presentemente il calcolo dei diritti doganali da tenere presente anche questo aspetto assolutamente sì un'incota non vale l'altro perché la casella 46 della bolle doganale valore statistico esprime il valore dei beni posti sul confine ma che gli affrega del valore dei beni posti sul confine in realtà l'istat interessa tantissimo perché tutte le statistiche sul commercio tutti quei valori che potreste vedere stimati nelle varie statistiche repagative di fine anno sono tutti impergnati sui valori statistici l'istat elabora il flusso delle merci che si erano avvenute basandosi sempre sui valori statistici quindi valori della merce comprensiva del trasporto fino al confine allora l'incoterm lato import addirittura quel valore statistico diventa la base imponibile su cui andare a calcolare i diritti doganali allora ancora meno innocuo di quanto non avvenga nel mondo dell'export quindi diciamo che l'incoterm è in grado sicuramente di condizionarmi questo calcolo indubbiamente sì la risposta è indubbiamente sì allora è chiaro che la logica è un po' questa il se io avessi venduto con ResXWorks ti sbagli mi scrivi FCA un FCA al posto di NextWorks e viceversa poco male dove l'errore inizia a avere una rilevanza è modificare un incoterm dei cosiddetti incotermi a partenza con un incotermi a destino invertire un ExWorks FCA che dir si voglia con un CPT on DAP e viceversa questo sì che va a impattare sulla bolla doganale in maniera molto significativa in un mondo di importatori sarebbe un errore assolutamente intollerabile in un mondo di esportatori ovviamente errore è errore rimane fortuna vuole che non devo pagare diritti doganali ma in un mondo di import è un errore importantissimo faccio un esempio tangibile concreto un esempio se io facessi un acquisto di merce FCA porto cinese 10.000 euro allora 10.000 euro sto parlando io importatore dal cinese è il valore delle merci poste dove? nel porto cinese allora casella 20 FCA porto cinese casella 22 10.000 euro valore statistico 10.000 eh no nella casella valore statistico devrò andare a raggiungere lo farò lo spedizioniere per il mio ordine conto quello che è l'incidenza del trasporto Cina Italia giusto perché noi su valore statistico calcoliamo valori CIF cost insurance and freight valore della merce più trasporto più assicurazione quindi dobbiamo andare a maggiorare quel 10.000 euro del nolo Cina Italia lo fa lo spedizioniere per noi ma se lo facesse male siamo noi importatori gli evasori eh quindi viene aggiunto quello che viene comunemente chiamato il nolo esterno il trasporto Cina Italia lo trovate spesso esplicitato nella bolla doganale totale nolo esterno costo Cina Italia 1000 euro me lo aggiungono e su quel valore CIF cost insurance freight valore merce più trasporto più assicurazione mi viene poi calcolato il Dazio quindi salario FCA è giusto che questo calcolo avvenga in questi termini è giusto che il valore statistico sia più alto del valore della merce del valore fatturato assolutamente sì ma se nonostante l'accordo resa FCA al porto cinese per mille motivi spiegabili il fornitore in fattura scrive prima CPT la spezia lo spedizioniere non si accorge noi non diamo istruzioni precise bollo doganale appare CPT la spezia per lo spedizioniere se 10.000 è il valore CPT la spezia è già un valore comprensivo del trasporto fino alla spezia quindi quindi se è vero la bolla doganale è compilata correttamente ma se è vero non è io importatore ho evaso il Dazio sul Nolo perché sembra che io l'abbia fatto apposta in accordo con il fornitore in accordo con il dichiarante doganale per non voler dichiarare il Nolo esterno il Nolo Cina la spezia per gonfiare la base imponibile quindi di fatto lo sto sgonfiando quindi di fatto non sto pagando il giusto Dazio sul trasporto e ricordiamoci che la base imponibile del Dazio più il Dazio diventa base imponibile dell'IVA quindi ricordiamoci che ho evaso Dazio e IVA per un incotere per un incotere apparentemente innocuo che tutto è tranne che innocuo evidentemente quindi io ribadisco l'importanza dei mandati l'importanza delle istruzioni perché il dichiarante doganale se nulla gli viene detto copia il dato dalle fatture in import le fatture belle o brutte che siano lui le copia ma io importatore devo verificarne il contenuto io devo verificare se sono corretto o non corretto nel manuale del buon importatore che prima o poi nella vita scriverò ma che per adesso non l'ho mai scritto dovrei dire che per fare un import chiunque mi deve spedire delle merci mi deve anticipare i documenti io dire mi vuoi spedire qualcosa e spedisci ma prima fai vedere le fatture packing list dichiarazioni certificazioni quant'altro io li vaglio li controllo e se tutto mi aggrada ti dico parti ma se tu non hai documenti in regola io non ti faccio neanche partire dico ma non è inutile che mi spedisci le merci se manca un documento manca un documento una informazione è per me indispensabile dico fermi tutti non partire perché se mi arrivi con le merci e i documenti incompleti la merce mi si pianta in dogana se la merce mi si pianta in dogana devo aspettare i documenti corretti se i documenti corretti tardano ad arrivare la merce mi va in sosta se la merce mi va in sosta mi costa l'ire di Dio allora aspettiamo un attimo partiamo un giorno dopo partiamo due giorni dopo ma partiamo con documenti corretti è indispensabile che questo avvenga sempre qui nel manuale muore importatore facciamocili anticipare i documenti bagliamo i documenti guardiamoli e solo se sono belli brillanti e corretti ma che mi arrivi pure la merce ok allora ricordatevi che con un vecchio decreto Bersani all'agenzia dell'organe sono stati attribuiti gli stessi poteri della guardia di finanza l'agenzia dell'organe può anche investigare sui conti correnti aziendali può andare a capire se i valori dichiarati sono corretti può andare a capire chi ha pagato il trasporto intervistare la compagnia di navigazione la compagnia aerea la compagnia della casa di spedizione se l'organe vuole se ricostruire il valore in dogana lo può fare perché il decreto Bersani è molto persuasivo nel senso che chiunque venga intervistato nella catena logistica dall'agenzia dell'organe nel tentativo disperato di ricostruire la base imponibile del Dazio e non fornisse le necessarie informazioni è punibile con una sanzione di 20.000 euro quindi vedete conto che tutti rispondono alle richieste della dogana per quando cerca di capire ma il Dazio c'è il trasporto chi l'ha pagato e tutti forniscono le informazioni richieste quindi se il valore ha un avete capito valore incotel vanno di pari passo sono due elementi sicuramente da valutare quindi l'incotel non lo possiamo sbagliare dei pesi che cosa vogliamo dire dei pesi delle merci beh diciamo che in bolle doganale sono sicuramente un dato richiesto nell'Unione Europea onestamente difficile strada in alcuni prodotti rari forse qualcosa nell'agricolo che ci siano Dazi parametrizzati sul peso per cui chiamo che anche i pesi non devono essere sbagliati certamente sì un eventuale errore del peso però normalmente non va ad impattare direttamente sul calco dei diritti doganali cosa che invece in altri paesi del mondo potrebbe facilmente avvenire provate a parlare ad uno svizzerotto un cliente della Svizzera dicendo ma se c'è un peso sbagliato in bolle doganale di ingresso in Svizzera chi se ne frega dice ah no in Svizzera è peggio sbagliare il peso del valore ah sì sì perché mentre l'Unione Europea mentre nella stragrande maggioranza di peso del mondo i dazi si pagano ad valorem con delle percentuali sul valore dei beni quindi il focus principale è sul valore in Svizzera si pagano dazi sul peso della merce prevalentemente quindi un'errata individuazione del peso espone eventuali evasioni decisamente poco simpatiche per cui è chiaro che abbiamo dei focus sicuramente differenti a seconda del paese adesso a noi ci interessa prevalentemente quello che è il lato Italia-UE e quindi io dico sui pesi c'è un errore interveniamo sicuramente sui pesi sui valori interveniamo sempre o se non per errori minimali sui pesi lo stesso facciamo qualche valutazione ma può valere la pena se sono valori piccoli lasciar perdere se sono valori importanti comunque intervenire anche sul lato eventualmente dei pesi arriviamo a un concetto fondamentalissimo in export non abbiamo diritti doganali a pagare in export sarei molto più attento a una logica di embarghi l'innominabile Russia di questi tempi la Corea l'Iran fate molta molta attenzione quando siete in fase di export dovete fare ormai praticamente sempre verifiche soggettive andare a verificare se quel cliente è soggetto ad embarghi sia un soggetto pericoloso ormai spero che sia diventato una consuetudine aziendale andare a verificare chi è il mio partner estero è un soggetto limpido un soggetto non cristallino perché giusto dirlo visto che siamo ormai all'undicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia il perimetro della sanzione Russia non è solo la merce che viene in Russia è la merce venduta anche a certi soggetti russi perché se andiamo accanto a un soggetto embargato questo soggetto è embargato tanto per merce vendute in Russia quanto per merce non vendute in Russia perché se l'oligarca russa fosse proprietaria di un'azienda non russa non posso vendergli lo stesso a quel tipo di soggetto quindi tenete presente che le verifiche soggettive sono molto impegnative anche in termini economici una verifica soggettiva costa veramente l'ira di Dio fortunatamente stiamo riuscendo a cercare di calmirare molto questi costi quindi poi se qualcuno avesse bisogno vi possiamo aiutare anche a fare verifiche soggettive però tenete presente che ormai è indispensabile andare a verificare a chi vendo se è un soggetto cristallino o non è un soggetto cristallino perché se poi voi doveste mai vendere un prodotto di vietata esportazione in Russia a un soggetto apparentemente innocuo svizzero ma fatto da componenti russi avete comunque commesso un grave reato all'export è assolutamente grave perché al soggetto imbargato non potete vendere anche quando sia semplicemente un proprietario di quote o azioni di altre aziende non necessariamente russe sono Lorenzo mi sta chiedendo in questo momento in chat bolla export campo 16 origine si intende il made in sì e molto spesso alcuni di caranti doganali indicano in Italia anche se in fattura scriviamo chiaramente origine Unione Europea ogni volta che cerco di fare tipicare questo campo vi ho detto che non si può perché non è un campo che la dogana visiona allora vi dico che sicuramente non è un campo obbligatorio sicuramente non è un campo dove c'è da prestare la maggiore attenzione in assoluto però anche a me darebbe molto fastidio devo sinceramente sono d'accordo con quello che scrive il signor Lorenzo perché se si dica Unione Europea mi devi scrivere Italy dove vuole hai presa questa informazione Italy non ti ho mai dato il mandato non ti ho mai dato istruzione di scrivere Italy è un'iniziativa che tu spedizioniere hai preso completamente fuori controllo allora potrei chiedere la revisione per me comunque una correzione su un dato di questo tipo è chiedibile assolutamente sì mi piace poco appunto che non ci sia questa collaborazione da parte di Cranetio Canale però ecco se posso dirlo insomma è uno dei campi che forse mi spaventano di meno in assoluto però insomma è assolutamente giusto che poniate l'attenzione anche su questo tipo di informazione perché se voglio che sia scritto un certo dato insomma posso pretendere che si adempia secondo quelle che sono le mie prescrizioni naturalmente dal punto di vista del quindi abbiamo visto in qualche modo quelli che sono i valori i pesi e quant'altro i diritti doganali stavo dicendo che in export non paghiamo diritti doganali quindi il nostro non pagare diritti doganali si agevola è tutto molto più light l'export molto meno pressione molto meno verifiche da parte dell'organa perché un errore di un dato non mi comporta evasione di diritti doganali lato export mentre lato import è è chiaro che ci sono errori che vanno direttamente ad impattare sul calco di diritti doganali e lì la dogana inizia a non scanzare più perché l'agenzia dogana ha tante prerogative tutta la del mercato comunitario impedire che entrino prodotti pericolosi mille prerogative ma alla fine potremmo banalizzare mi rendo conto che lo sto pesantemente banalizzando il ruolo della dogana anche nel incamerare i giusti diritti doganali è giusto che una merce entrante sul territorio unionale paghi i corretti diritti doganali e su questo la dogana ha un focus sicuramente molto molto elevato e quindi adesso poi potremmo anche raccontarci o mi racconterete voi come li pagate questi diritti doganali in dogana la signora Paola però sta scrivendo tornando ai corrieri i loro documenti sono spesso sbagliati questo purtroppo a me dispiace doverlo dire ma sono d'accordo nel senso che la celerità dei corrieri espressi che fanno un ottimo servizio dal punto di vista della spedizione perché da questo ovviamente nulla da recepire entro le 10 del giorno successivo sono dall'altra parte del mondo spesso con la mia spedizione tanto di cappello però doganalmente la fretta non aiuta e questa fretta spesso è fuoriera di errori più o meno importanti quindi dice capisco che se l'indicazione della fattura o l'importo o la merce è sbagliato è meglio farla correggere confermo ma se il double down non arriva come dobbiamo richiedere cosa dobbiamo chiedere come prova di avvenuta esportazione e questo è uno dei drammi permetto di definirlo tali nel rapporto con i corrieri espressi perché i corrieri espressi sono degli elefanti sono immensi sono giganteschi e la difficoltà aziendale è trovare l'interlocutore a chi mi rivolgo quando ho un problema a cui documenti doganali il numero verde il numero verde del corrieri espresso in teoria dovrebbe essere il vostro principale referente il numero verde con tutto l'entusiasmo che mi insegnate ad esserci nel contattare il numero verde perché il numero verde risponde il numero verde non risponde il numero verde apre la pratica ma chi è il miglior interlocutore del numero verde non sa neanche di cosa sto parlando e quindi ci fa molta molta fatica purtroppo con i corrieri espressi il DAO vi dico è quasi sempre un sogno irraggiungibile il DAO sarebbe già un ottimo risultato ma potrei accontentarmi di un foglietto come fanno molti i corrieri espressi in cui mi comunicano il numero dell'MRN e il valore dichiarato per mio ordine conto indogana portassi a casa il risultato di questo tipo io sarei già pienamente soddisfatto oserei dire perché sarebbe già veramente un risultato soddisfacente quantomeno lo definirei assolutamente tale ok dal punto di vista del nostro quindi i corrieri espressi vi dico purtroppo non è che si possa fare molto di più perché quella famosa circolare ha dato in qualche modo carta bianca al corrieri espresso e lui giustamente si difede dicendo ma il circolare mi permette di darvi il minimo indispensabile e io sono perfettamente compliance a quella che è la normativa nel momento in cui vi consegno semplicemente questo nome di MRN e il valore dichiarato per vostro ordine conto in dogana per me la storia si chiude così ok allora corrieri espressi a parte vi stavo dicendo per quel che riguarda i diritti doganali un gioco da import quindi esclusivamente da import forse non interessa a tutti ma oggi come oggi il calco diritti doganali come avviene valore la merce più trasporto più assicurazione più tutti gli elementi del valore tenete presente che una delle novità della nuova bolla doganale è stata la soppressione del dv1 di creazione di valore quel documento che veniva richiesto per importazioni sopra i 20.000 euro non esiste più come documento autonomo certo i dati del dv1 continueranno a chiederveli c'è un rapporto infragruppo tra il fornitore e l'importatore pagate royalties pagate stampi ci sono altri elementi del valore di cui bisogna tener conto in dogana per costruire la base imponibile sono domande che vi perverranno lo stesso non più sotto forma di dv1 di creazione di valore perché il documento è soppresso ma certamente saranno dati assolutamente utili per lo spedizioniere perché anche le royalties anche gli stampi anche tutti questi elementi del valore devono essere messi in dogana per costruire la base imponibile noi pagheremo dazi sul valore delle merci più trasporto più assicurazione più royalties più stampi più tutti gli elementi del valore matrici e quant'altro una volta individuata la base imponibile dobbiamo individuare la liquida taziaria e la liquida taziaria è a funzione della voce doganale non vi annoio oggi con la voce doganale perché qualcuno mi ha detto ma massacrato il 27 giugno tre ore non stop a parlare solo di voce doganale abbiamo capito che la voce doganale di import è fatta di 10 caratteri abbiamo capito che anche la nonna della decima cifra comanda sulla liquida taziaria la voce doganale è sotto la giurisdizione sempre di chi si intesta la bolla doganale stessa di import stessa di export sono l'importatore e la voce doganale l'ha detto io giusto la responsabilità la prendo io giusto chiedo al fornitore giusto ma poi la vado a sindacale la vado a verificare se è buona o non buona non vi annoio oltre perché ne avevo già parlato tre ore per chi era presente la volta scorsa solo di voce doganale la voce doganale è mia l'ha detto io do istruzioni conferisco mandato voglio che in casella 33 sia scritta nei 10 caratteri come dico io e quella voce doganale comanda sulla liquida taziaria in abbinamento con l'origine della merce i due elementi che caratterizzano il pagamento del dazio sono che cosa importi voce doganale chi origine ha la merce che importi non c'entra niente la provenienza se un americano mi vendesse merce cinese pago dazio su merce cinese è l'origine è il luogo geografico fisico di produzione di un bene che comanda il luogo dove ha subito l'ultima trasformazione sostanziale che permette di parlare di origine che mi arrivi dagli Stati Uniti è merce cinese merce cinese rimane assolutamente così deve essere non c'è dubbio alcuno allora diciamo che facciamo finta che sia tutto straordinariamente chiaro a un certo punto grazie all'origine grazie alla voce canale individuo la liquida taziaria la liquida taziaria pagando noi i dazi ad valorem l'applico come percentuale matematica sulla base imponibile pago il dazio mi dicono quanto c'è da pagare di dazio la base imponibile del dazio più sovrimposto di confine tasse portuali del portuale cose di questo tipo più il dazio va a costruire la base imponibile ai fini dell'iva su quel valore vado a applicarci l'aliquota iva 4, 10, 22% che sia pago cioè mi dicono quanta iva deve essere versata in dogana attenzione che non so oggi come paghiate questi diritti doganali in dogana molto spesso il rapporto non fiduciario con lo spedizioniere porta a dire mi devi pagare dazio e iva e ti porto la merce a casa ci sta il dichiarante doganale è responsabile in soldo con voi sul pagamento di diritto doganale l'unica arma che lui ha per sicuri che voi pagherete è la merce per cui vi dice mi dai soldi e ti porto la merce non mi dai soldi di diritto doganale non ti porto la merce perché se poi tu per caso importatore sparirai fallirai non pagherai pago io dichiarante doganale per me ho rischio da dichiarante doganale eccessivo quindi voglio prima i soldi e poi ti do la merce l'unica arma che ho io dichiarante doganale per pretendere che tu pagherai è la merce è chiaro che questo fa parte di un rapporto non fiduciario tra le parti se invece noi avessimo costruito negli anni un rapporto fiduciario potrei dire allo spedizioniere vabbè dai dammi la merce e ti do assoluti i soldi te li do comunque rapidamente molto rapidamente però perché perché i dichiaranti doganali tutti i dichiaranti doganali i diritti doganali li pagano a 30 giorni salvo a Trieste dove si può arrivare tu a 90 ma a 30 giorni perché sfruttano il pagamento periodo di ferito una possibilità che gli viene concessa allora dogana di pagare a 30 giorni i diritti doganali nel contesto del rapporto fiduciario nel momento in cui si giochi nella massima trasparenza io il portatore so che tu dichiaranti doganali paghi 30 giorni lavoriamo insieme da una vita ho sempre pagato tutto puntualmente perché mi devi ricattare con le merci che non mi vuoi consegnare dammi ste merci e ti do i soldi a 10 giorni a 15 giorni a 5 giorni entro 30 te li faccio avere tassativo è chiaro che però l'ospedizione deve fidarsi di noi perché io chiaramente posso essere stata l'azienda precisa puntuale per una vita sono in stato semifallimentare o prefallimentare concordato fallimentare che so io e la volta in cui lui si fida di me è una volta che non pago la volta che non pago fallisco se io fallisco la dogana chiede i soldi allo spedizioniere il quale poi per farsi ridare i soldi dovrà insinuarsi nel mio fallimento ovviamente un aspetto sicuramente problematico però è chiaro almeno spero sia chiaro che il calco di diritti doganali è un conteggio che alla fine crea degli imbarazzi pago io paghi tu rischio io rischi tu ma io azienda non posso bypassare lo spedizioniere sul pagamento dei diritti doganali per me la risposta è certamente sì come faccio io a bypassare lo spedizioniere sul pagamento dei diritti doganali mi faccio autorizzare io dalla dogana avere un mio conto corrente di debito un conto corrente differito di dogana un conto corrente sul quale dico lo spedizioniere quando sei lì a compilare la bolla dogana di import nella casella 44 comunica che scusate nella casella dati contabili comunica il mio numero di conto corrente che non è il vostro attuale conto corrente è un conto corrente dedicato all'agenzia delle dogane e cui dirò lo spedizioniere fai che la dogana prelevi i soldi previa autorizzazione previa apertura di questo conto corrente differito fai che la dogana vada a prelevare i soldi alla scadenza a 30 giorni direttamente sul mio di conto corrente uno strumento eccezionale ma uno strumento che ha delle difficoltà pratiche nella misura in cui la dogana mi chiede un conto corrente per ogni dogana nella quale vado operando se voglio usare il pagamento differito a Genova chiedo un conto corrente a Genova ma se domani la giovane mi sbarca la spezia e voglio usare la spezia ci vuole un secondo sotto conto corrente se vado a Malpeso un terzo sotto conto corrente quindi è chiaro che avrebbe un senso individuale principale nella quale faccio più operazioni doganali di import in quella accendere il conto corrente per canalizzare il massimo dell'operazione doganali con un unico conto corrente e pagare i diritti evitando quell'impasto dammi le merci dammi i soldi dammi i soldi dammi le merci che può nascere con un dichiarante doganale se no il non plus ultra della specie è fare attivare un luogo approvato in import che so io anche a Parma stessa nel vostro stabilimento ovunque arrivi arrivi la merce nei confini dell'Unione Europea far fare dei T1 delle bolle doganali di cauzione per spostare la competenza doganale dai confini al vostro luogo approvato portare la merce tutto in stabilimento con un unico conto corrente di debito di testato dell'agenzia doganale di Parma potremmo pagare tutti i diritti doganali ok allora abbiamo accumulato qualche domanda adesso rispondo qualche domanda poi finiamo la nostra trattazione perché quando si diverte il tempo vola 5.30 dovremo chiudere i nostri lavori ormai il mio orologio manca un quarto d'ora abbondante buonasera se il mio cliente manda un suo trasportatore ma la bolle doganale la faccio tramite il mio spedizioniere posso anticipare la fattura il giorno prima del carico allo spedizioniere sì per me la risposta è lì di principio sì molto spesso il trasportatore si lamenta del tempo di attesa per la ricezione della bolla doganale implica qualcosa il fatto che effettivamente non sia fisicamente il materiale sul mezzo no in questa fase no nell'anticipazione no poi quando la bolla doganale viene generata quando viene flussata in dogana è chiaro che se uscisse visita merce la dogana la merce la può voler vedere e in quel momento la merce deve assolutamente essere presente altrimenti stiamo parlando assolutamente del nulla mi conferma che per rettificare la bolla doganale di Impor con i cori spessi vogliono dai 12 ai 18 mesi io ovviamente sono tempi che vi posso stimare dal punto di vista pratico la realtà che se in un mondo ideale si potrebbe volere dai 12 ai 18 minuti forse però nella realtà dei fatti mi porta a dire che si arriva anche a 24 mesi clamoroso ma vero purtroppo è così veramente così purtroppo la mia azienda chiude devo abbandonare è possibile avere la registrazione sulla registrazione poi risponderà la camera di commercio però so che siamo registrati perché vedo anche in questo momento che la registrazione è in atto quindi mi permetto di anticipare che a chi ne farà richiesta è possibile ottenere la registrazione sicuramente sì i contatti che accendiamo dovete purtroppo prenderli direttamente con me vi metterò in contatto con le persone di cui avrete eventualmente bisogno signora Gianna che valenza ha il tracciamento di un MRN di transito sul sito europeo se un MRN una data con stato stop it exported ma sul sito dell'organo italiano una uscita scaduta qui è vero capita spesso noi abbiamo bisogno di prove certe dell'export per cui io in genere in questi casi che sono più frequenti di quel che si possa minimamente pensare continuo a suggerire alle aziende di procurarsi comunque le prove alternative dell'export cosa vuol dire procurarsi le prove alternative dell'export una serie di documenti che singolarmente intesi non dimostrano un bel niente ma che se visti nel loro complesso se analizzati nel loro complesso possano confortare l'agenzia delle dogane in merito alla circostanza che la merce avrà davvero lasciato al territorio dell'Unione Europea considerate che le prove alternative dell'export vanno esibite a una dogana di partenza una dogana che quindi non sa com'è finita la storia una dogana che si deve prendere il rischio il lusso di darmi conferma che la merce abbia veramente lasciato il territorio della UE quindi devono essere tutti documenti univoci documenti concomitanti non uno che parli di una cosa uno che parli di un'altra e di fatto io mi conserverei la fattura il pagamento il documento internazionale di trasporto Airway Bill o Bill of Lading che siano e per me una Bill of Lading che poi non abbiamo detto praticamente niente la Bill of Lading ma la Bill of Lading è un documento internazionale di trasporto marittimo è un titolo di credito è un titolo al portatore è un titolo on board è un titolo pazzescamente importante se noi avessimo una copia della Bill of Lading noi potremmo dimostrare che la merce è salita su una nave e se la merce sulla nave è salita è una nave che è partita una nave che non fa scendere le merci perché per far scendere le merci di una Bill of Lading bisogna fare un ammortamento del titolo è come aver smarrito un assegno bancario diciamo che una Bill of Lading è un documento pazzesco se sono andato via mare ovviamente se sono andato via aerea sarà un Euro e Bill che non è la stessa cosa di una Bill of Lading ma è pur sempre un documento internazionale di trasporto è pur sempre un documento on board sia la Bill of Lading che l'Euro e Bill vengono emesse con merce prima caricata sull'aereo mobile o sull'aereo o la nave di turno con nave poi partita se però come spesso succede il problema lo riscontro su una via camion allora sulla via camion è l'equivalente documento al CMR la lettera di vettura camionistica CMR che se volessi usarla come prova alternativa dell'export devo produrla come lettera di vettura timbrata e firmata per ricevuto a destino proprio quel documento che non ho quel documento che ha il mio cliente quel documento che ha il trasportatore quel documento che devo chiedere pretendere ad ottenere dal trasportatore o dal cliente stesso affinché me ne venga data una copia un documento che posso far fatica a portare a casa la risposta è innegabilmente un documento che anche se porto a casa deve essere un documento parlante un documento che non parli di tre casse io ho spedito tre casse ma sulle mie casse sono le casse di un altro deve potersi vincere dalla lettura di quel documento quindi anche poi chi compila questi CMR deve farlo bene io infatti suggerisco alle aziende sostanzialmente di non rimanere passivi sui CMR di cercare di interagire nelle vite del possibile quei trasportatori nelle missioni CMR qualcuno addirittura inverte l'onere dice lo compilo io CMR come venditore lo faccio firmare al vettore quando prende in carico la merce proprio per poter disporre dopo di un CMR il documento di trasporto fatto secondo le mie esigenze di speditore qui aggiungo un concetto completamente fuori tema me ne scuso ma credo che possa interessare comunque a qualcuno il Covid ha fatto esplodere un tema clamoroso nelle vostre esportazioni un tema legato alle autorizzazioni all'export un tema dell'autorizzazione all'export dei trasportatori causa pandemia stretta quando siamo stati reclusi fondamentalmente tutti in casa circolavano solo camion e la polizia stradale fermava i camion e quando ha iniziato a fermare i camion sono resi conto di un fenomeno dilagante di vettori extracomunitari che si presentano al carico di aziende italiane soprattutto quando si vende Xworks prive dell'autorizzazione al trasporto internazionale e hanno sequestrato un fiume di camion e contestualmente le merci contenute nel camion quindi non so se già è una cultura aziendale di tutti ma deve diventarlo per forza quando caricate un camion adibito all'internazionale quando soprattutto il vettore è un extracomunitario ma voi che gli chiedete a quel trasportatore è già consuetudine procedura aziendale chiedere una copia del CEMT como Empoli Milano Torino dell'autorizzazione a pagamento che il vettore deve avere ottenuto per poter fare quel trasporto internazionale lo chiediamo o non lo chiediamo io vi dico chiediamolo e non so come vi stiate comportando oggi io direi chiediamolo questo documento ora io non so come state operando però vi assicuro che una delle illusioni che hanno molte aziende dicono io vengo Xworks ma che me frega che succede la merce una volta uscita dal mio stabilimento e attenzione perché in realtà pur vendendo Xworks voi il camion lo caricate se voi il camion lo caricate assumete la veste dei caricatori se voi siete i caricatori siete responsabili del fatto che il vettore che sia venuto al carico sia un vettore con le autorizzazioni necessarie per effettuare quel trasporto se emergesse a posteriori dal controllo della polizia stradale fermando quel camion che ha caricato le vostre merci che era privo dell'autorizzazione CHEMT sequestano camion e merci c'è una corresponsabilità del caricatore che caricando quel camion privo dell'autorizzazione ha favorito l'esercizio abusivo della professione di autotrasporto quindi sequestano anche le vostre merci e non oso pensare perché non sono un avvocato cosa possa succedere nella misura in cui quel vettore privo del CHEMT caricando il vostro stabilimento parte troppo sportivo centra l'ignaro ciclista che sta passando per sua sciagura davanti al vostro stabilimento lo centra e crea dei danni irreversibili morte compresa secondo me temo ci possono essere dei profili di corresponsabilità del caricatore che caricando quel camion gli ha permesso di essere abusivamente in circolazione e di provocare danni al ciclista quindi non è un tema così da sottovalutare nel mondo dell'export quindi io penso e spero che ci sia ormai una diffusa cultura del chiedere e pretendere l'autorizzazione dell'export da parte di questi vettori e ribadisco solo quelli extracomunitari che devono essere in possesso del CHEMT CHEMT che costa perché per avere il CHEMT il vettore deve pagarlo e questo ha creato un sacco di casistiche nelle quali il vettore del CHEMT non lo vuole sostenere come costo e quindi preferisce il cliente privilegiare i trasportatori privi del CHEMT io ho un'azienda di pomodori italiana che ho seguito a lungo soprattutto durante il covid abbiamo fatto dei corsi online e quando gli ho parlato di CHEMT vedete ma voi le chiedete i CHEMT voi vendete in Russia e se Paolo dice non so cos'è il CHEMT ma è un'ottima compagnia è un'autorizzazione al trasporto un'autorizzazione che deve pagare il trasportatore per poter guidare un camion dall'Italia all'extra way questa azienda dei pomodori quando gli ho detto ma voi vendete in Russia prima della guerra sì chiedete al CHEMT non so cosa sia ma hai chiesto chiedetelo tanto avevamo il corso più puntate noi abbiamo chiesto di trasportatori russi belorussi non ce l'ha nessuno ma adesso che facciamo non dovreste caricare il camion sì ma se non carichiamo il camion cosa succede col cliente andiamo soft diciamo al cliente che noi da adesso abbiamo una filosofia aziendale che ci impone di verificare l'autorizzazione di CHEMT diteglielo al cliente seconda puntata ha detto cosa è successo abbiamo detto al cliente che noi vogliamo camion CHEMT sapete cosa si è risposto il cliente ma siete l'unica azienda che vende pomodori in Italia no quindi o caricate il camion senza CHEMT o vado a caricare da un'altra parte e ha detto ma che facciamo aspetta a me decidilo deve essere la proprietà ovviamente a prendere decisione così drastica è chiaro che se facciamo i puristi se applichiamo la norma perdiamo il cliente se no dovete trovare un sistema per arginare questo fenomeno dilagante perché il vettore arriverà sempre senza CHEMT questo purtroppo sì ho sforato in un campo più strettamente logistico più un campo strettamente d'ufficio spedizioni però credo che insomma per aziende come siete sicuramente tutti voi presenti oggi che hanno questa vocazione estera questa spiccata per pensione all'esportazione è un ulteriore controllo che dovete necessariamente porre in essere se un Giorgio mi dice cosa pensa lo Statement Received Codes è che questo è un documento che ogni tanto si vede un documento che in alcuni casi può tornare comodo però se parliamo di export in senso stretto per me comandano sempre i documenti più requisitamente doganali bolle doganali diventano i documenti principi per eccellenza si può fare sosta tecnica nel territorio UE corretto? sì indicando nel CMR sì ma attenzione che la sosta tecnica è una sosta tecnica la sosta tecnica è solo un tempo necessario per il trasbordo delle merci da un camera all'altro non è vietata ci mancherebbe altro quello che impedirei con tutte le mie forze che avvenga è uno scalo tecnico all'interno del quale venga emessa una bolla doganale perché sono specializzati i nostri clienti anche russi perché ovviamente non c'è un embargo assoluto verso la Russia alcuni prodotti in Russia si possono vendere comodamente ma spesso fanno riemettere bolle doganali in Slovenia in Lettonia in Lituania allora ritorniamo al problema della bolla doganale non riportante il codice IT perché a quel punto posso avere grossi problemi legati alla prova della venuta esportazione allora che sosta tecnica sia ma la bolla doganale fatta là come spesso succede mi piace davvero molto 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 poco cercherei di evitarlo con tutte le mie forze nel limite di quello che saranno le vostre forze contrattuali perché evidentemente abbiamo un problema grosso di forza contrattuale con alcuni clienti c'è poco da discutere comandano loro e ci adeguiamo perché se no ci minacciano ovviamente di non acquistare assolutamente più nulla dalla nostra azienda come è successo con l'azienda dei pomodori in cui il cliente ha detto o così ovviamente vado a cercarmi un fornitore diverso perché io non sono disposto a sostenere il costo del centro come cliente che organizza il trasporto ok allora al mio orologio ormai è stato letteralmente un countdown perché mi sembrerebbero mancare tre minuti scarsi alla fine della nostra chiacchierata per chi ha seguito tutto il nostro corso ormai sono più o meno nove ore che mi sta ad ascoltare e penso che non ne possa semplicemente più per cui non voglio perseguitarvi oltre l'orario concordato delle 17.30 per cui non so se qualcuno che ha ancora qualche domanda finale io ho la fortuna di essere seduto qui alla mia scrivania a Parma non devo scappare da nessuna parte e rispondo molto volentieri eviterei però nell'imiter possibile di suorare quello che è l'orario per cui se c'è qualcuno che vuole approfittare di qualche domanda finale rispondo comunque volentieri ribadisco se qualcuno avesse bisogno di tutti quei contatti mi può trovare cercheremo di darvi soddisfazione perché a me piace che da questi incontri si esca con delle soluzioni pratiche e non con della teoria pura perché per la teoria potete leggervi tutte le circolari delle esenzioni d'ogane con grande soddisfazione io non so se la Camera di Commercio deve fare dei saluti finali visto che ormai siamo alla fine della nostra chiacchierata quindi lascio parola grazie prego grazie a nome della dottoressa Simonini che si è dovuta sentare vi saluto e ringrazio per la presenza l'interesse dimostrato per questi webinar che il dottor Bennevo ha condotto con maestria trasmettendoci il suo entusiasmo per le tematiche trattate invieremo agli iscritti materiale didattico e link per fruire della registrazione vi chiederemo anche di compilare un breve questionario di valutazione per aiutarci a programmare al meglio le iniziative future grazie a tutti e buona serata buona serata anche da parte mia allora ci vediamo alla prossima iniziativa della Camera ringrazio anche tutte le persone che stanno insomma mi sembra scrivendo che è stato gradito l'incontro e direi ringrazio anche chi mi definisce meglio di un'enciclopedia e alla prossima occasione ancora buona serata a tutti arrivederci grazie grazie